bene buongiorno a tutte a tutti buongiorno alle studentesse agli studenti alle madri e i padri e genitori che sono qui presenti e vi ringraziamo per questa vostra presenza per avere così tanta curiosità rispetto ai corsi di studio del dipartimento di scienze umane io mi chiamo rosanna cima e ho l'onore e l'onere di condurre questo incontro che dovrebbe terminare alle ore 17 vi anticipo due piccole cose che potrebbero essere interessanti per tutte e tutti voi la prima è che al termine di questo incontro fuori vi verrà rilasciato l'attestato di partecipazione quindi tutte e tutti coloro che lo desiderano possono accedere al aglio stand che appena fuori dalla porta di questa aula magna l'altra informazione generale è che emily vieni la studentessa del primo anno di scienze pedagogiche sarà disponibile con un microfono vi raggiungerà perché sono sicura che al termine di ogni presentazione del corso di studi voi avrete delle domande da proporre da porre osservazioni ai miei colleghi e colleghe mano a mano parleremo ognuno di noi avrà un corso di studi da presentare e emily raggiungerà con le vostre questioni le vostre domande noi saremo contenti di potervi rispondere d'accordo grazie emily per essere qui con noi mi pare di dirvi anche un'altra cosa sì questo suggerimento dell'ufficio orientamento che tutte le questioni le domande gli interrogativi punti così di dubbio che riguardano per esempio gli studenti che vengono da fuori verona e che quindi potrebbero fare domanda richiesta di supporto e sussidio fuori sempre nell'altro di questa aula magna ci sono delle persone addette dei tutor addetti all'esu quindi questo tutte le domande che avrete intorno anche al diritto allo studio quindi anche al supporto anche economico per i vostri studi piuttosto che al supporto riguardo all'inclusione quindi per coloro che hanno avuto delle segnalazioni o comunque sono studenti portatori di alcuni specifici disturbi dell'apprendimento possono richiedere sempre nell'attrio di questa aula tutta una serie di informazioni utili per poter cominciare e continuare il percorso di studi in questa università mi pare di aver terminato le informazioni a livello generale e passerei ora la parola al nostro collega professor luca mori che vi illustrerà la laurea triennale in scienze del servizio sociale buongiorno mi sentite sì direi di sì benvenute benvenuti permettetemi anche a me di ringraziare tutte e tutti della presenza io come diceva la collega mi chiamo luca mori sono un docente di sociologia insegno sociologia generale e sono il coordinatore di un corso di studi ovviamente triennale eh in scienze del servizio sociale quindi parleremo per qualche minuto eh di questo di questo corso di studi che eh gioco forza forma degli assistenti sociali eh chi sono gli assistenti sociali eh gli assistenti sociali sono eh dei membri di una comunità professionale il servizio sociale in Italia costituisce una professione eh che cosa voglio dire che eh al pare dei medici degli architetti degli avvocati dei commercialisti eh gli assistenti sociali sono organizzati su base professionale esiste un ordine professionale eh che appunto ha delle emanazioni eh regionali eh e che si preoccupa per l'appunto di vigilare sull'esercizio di quella che a tutti gli effetti è una professione. Quindi non si può fare eh l'assistente sociale senza no? Non so se capite il concetto no? Senza svolgere eh questo percorso di studi eh alla fine del quale ahimè dopo la laurea eh ci sarà un'altra prova eh da superare che è quella dell'esame di Stato. Quindi alla fine di questo percorso eh di studi eh di studi triennali ottenuto il titolo eh eh vi toccherà eh come eh vi dicevo prima ahimè eh passare un esame di Stato e una volta passato l'esame di Stato potrete finalmente iscrivervi all'albo professionale di tipo B degli assistenti sociali. Eh gli assistenti sociali sono organizzati in due eh albi professionali c'è eh l'albo professionale di tipo B eh che appunto raccoglie eh gli assistenti sociali in possesso della laurea triennale e eh sono assistenti sociali a tutti gli effetti svolgono appunto le funzioni e i compiti di assistente sociale. Poi eh se eh intenderete mh seguire nel percorso di studi potrete affrontare la eh la laurea magistrale e il percorso magistrale di laurea e eh a seguito di un ulteriore eh esame di Stato potrete finalmente iscrivervi all'albo professionale di tipo A che è riservato appunto agli assistenti sociali in possesso della laurea magistrale a cui vengono delegate generalmente funzioni di coordinamento. Hm non so se è chiaro ma eh insisto ripeto dopo la laurea triennale in scienza del servizio sociale è possibile iscriversi all'albo B e eh esercitare appunto la professione di assistente sociale. Cosa fa eh questa benedetta professione? Che cosa fa eh l'assistente sociale? Eh essenzialmente eh l'assistente sociale è una figura eh che opera cercando di contrastare e eh di eh prevenire eh le situazioni, le condizioni eh di eh marginalità e eh disagio. Eh e lo fa eh mettendo in campo eh competenze specifiche eh potremmo dire competenze tecniche non solo tecniche ma esistono appunto competenze specifiche eh dell'ambito disciplinare di servizio sociale che sono finalizzate a istituire, a creare eh significative relazioni di aiuto. Hm di aiuto. Eh con chi opera eh eh l'assistente sociale? Opera in una eh eh svariata eh diciamo serie di ambiti. Hm l'assistente sociale si occupa di povertà per esempio eh l'assistente sociale si occupa eh di eh dipendenze eh si occupa di immigrazione eh si occupa di eh disabilità eh si occupa di devianza, di difficoltà familiari, di minori, di anziani in condizione di disagio e di bisogno eccetera. E eh eh lo fa eh svolgendo la propria la propria funzione, il proprio ruolo all'interno eh di una serie di enti. Eh eh e quali sono questi enti che si avvalgono eh delle funzioni del servizio sociale? Anche qui eh eh grande eh grande varietà. Eh abbiamo ovviamente eh enti pubblici come i comuni eh le aziende sanitarie eh le aziende ospedaliere eh i tribunali minorili ad esempio eh i servizi residenziali per anziani eh le associazioni no profit eh gli uffici di esecuzione penale esterna eh casa e famiglia comunità di recupero eccetera. Quindi vedete non soltanto enti privati ma anche enti di privato sociale eh come appunto associazioni eh organismi di volontariato eccetera e si sta affacciando ormai da eh qualche anno inizialmente con toni abbastanza timidi eh oggi eh nel presente sembra avere più consistenza l'esercizio libero della professione. Cosa vuol dire l'esercizio libero della professione? Che esistono esperienze di assistenti sociali che da soli o eh in gruppo no eh si offrono eh liberamente come consulenti capite? Come eh liberi professionisti. Ok? Eh quindi eh vedete grande grande varietà grande complessità mh della professione quindi grande differenziazione degli ambiti è una professione complessa insisto multisfaccettata eccetera. Eh come si articola eh il percorso eh formativo necessario eh che occorre seguire per diventare assistente sociale? Il nostro corso di studi eh propone un iter che si articola in eh cinque ambiti capite? Potremmo dire in cinque blocchi eh eh il primo blocco è quello che noi chiamiamo eh l'area teorico-culturale. Eh permettetemi di spendere qualche parolina in più eh relativamente a quest'area eh il CDS non non soltanto appunto la triennale anche la magistrale ha imboccato ormai da tempo un orientamento abbastanza specifico eh che eh eh diciamo così contrasta eh l'idea dell'assistente sociale inteso come burocrate. Eh eh il nostro CDS contrasta in maniera diciamo netta la concezione amministrativa dell'assistente sociale. Eh c'è purtroppo ahimè eh è troppo diffusa questa idea che l'assistente sociale sia semplicemente un attivatore di servizi. E quindi eh se c'è il problema A allora reagiamo attivando il servizio B se c'è il problema C allora agiamo attivando il servizio D e via discorrendo. Eh l'assistente sociale eh non fa questo o meglio non fa solo questo. Eh dicevo prima l'assistente sociale deve essere un professionista in grado di istituire, di creare significative relazioni di aiuto. Eh e eh come immagino possiate intuire eh creare, istituire relazioni e mantenerle necessita di competenze che vanno molto al di là dell'aspetto tecnico eh giuridico organizzativo ma che richiedono eh come dire conoscenze, competenze, sensibilità che possono essere acquisite soltanto eh a fronte di una preparazione che spazia, che spazia in vari ambiti. Da qui la necessità come dire di eh offrire un'area culturale ben nutrita che eh è diciamo così eh animata da insegnamenti che vengono offerti sia nelle discipline sociologiche eh quindi l'assistente sociale deve essere un professionista che ha competenze capite anche concettuali, categoriali, interpretative eh per collocare i problemi che affronta nei contesti sociali, capire le dinamiche di produzione di questi problemi eh eh capire i meccanismi mh mh che stanno alla base delle condizioni di disagio e di bisogno eh l'assistente sociale deve essere formato anche eh nelle materie psicologiche eh questo mi sembra assolutamente evidente nell'istituire una relazione d'aiuto eh non possiamo avere innanzi un professionista che sia perdonatemi come dire eh la brutalità del termine un'analfabeta psicologico questo questo è chiaro eh ma esistono anche competenze di natura antropologico-culturale, esistono anche competenze per esempio di natura statistica. L'assistente sociale deve essere uno capace di leggere i dati eh altrimenti come fa a interpretare le necessità e i bisogni per esempio di un territorio, di una comunità, di una realtà urbana nella quale si troverà ad operare. Quindi la prima area su cui insistiamo molto, l'avrete capito, è quella diciamo teorico-culturale. Una seconda area è quella che noi abbiamo chiamato forse un po' cripticamente, perdonate, contestuale. Ci piaceva questa parola. Cosa vuol dire l'area contestuale? L'area contestuale raccoglie quegli insegnamenti di natura giuridica e organizzativa. Perché contestuale? Perché l'assistente sociale ovviamente è anche un operatore del diritto, deve conoscere la normativa che regola i servizi, deve conoscere le procedure burocratiche necessarie per attivare no eh azioni di aiuto e e via discorrendo e quindi deve essere anche competente in relative relativamente alle dinamiche dell'organizzazione oltre che eh ai lessici individui giuridici. Eh la terza area è quella metodologico professionale. Eh il servizio sociale è eh una disciplina che appartiene al più ampio spettro delle discipline sociologiche ma ha un suo linguaggio, ha eh un un delle sue delle proprie competenze, dei propri strumenti, ha dei propri metodi di intervento. Quindi in quest'area quella metodologica sono raccolti gli insegnamenti che vanno generalmente sotto l'etichetta di metodi e tecniche del servizio sociale che sono tre e quindi vi accompagneranno mh un corso per ogni anno metodi e tecniche uno, metodi e tecniche due, metodi e tecniche tre. Eh quarta area eh è è quella esperienziale. Cosa vuol dire area esperienziale? eh l'assistente sociale eh iscritto al CDS triennale è eh obbligatoriamente diciamo così spinto a svolgere un tirocinio. È un tirocinio professionale che si articola in cinquecento ore circa al secondo e al terzo anno. Eh quindi dal secondo anno eh sarete accompagnati accompagnati ovviamente eh inizierete a svolgere il tirocinio presso un servizio hm poi se sarete interessati potremmo scendere un po' più nel dettaglio eh di quali servizi eh e incomincerete ad affiancare ovviamente sotto no eh la guida eh di un assistente sociale professionista dicevo incomincerete ad affiancare gli altri colleghi eh nell'esercizio concreto capite del lavoro quotidiano hm e questo si fa eh nel primo anno e scusatemi perdonatemi nel secondo anno e nel terzo anno. E l'attività di tirocinio capite è un'attività eh fondante fondativa eh non soltanto perché finalmente vedrete mettere all'opera eh le categorie gli strumenti i concetti che avete studiato eh durante le attività di aula teorica ma perché è lì che in qualche modo incomincerete a respirare quella che è l'identità vera e propria della professione eh quindi il tirocinio nell'ambito del nostro corso di studi come in tutti gli altri però nel nostro ha un peso specifico notevole e infatti è per questo che dedichiamo eh tante ore. Eh infine l'ultima area eh è quella eh che abbiamo chiamato relazionale eh e raccoglie eh diciamo così quelle eh eh discipline eh quegli insegnamenti eh che sono finalizzati no eh a mettervi in grado di stare in relazione sia con l'utenza ma sia anche con gli altri professionisti che per forza di cose incontrerete nell'esercizio concreto della professione. Eh quindi per esempio altri operatori sociali, psicologi, medici, giuristi eccetera eccetera eccetera. Eh in quest'area qua eh relazionale sono racchiusi anche eh quelli che noi chiamiamo laboratori di guida al tirocinio. Eh e questo è un tema su eh eh cui eh diciamo anche qui permettetevi la 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 pedanteria di spendere due parole in più. Eh perché esiste sì il tirocinio che ovviamente è eh un'attività di lavoro protetta, coordinata no? Eh e guidata da un assistente sociale eh professionale ma eh esiste anche una sorta di cerniera come posso dire di camera di coordinamento tra eh no eh l'insegnamento teorico e eh eh il tirocinio pratico e questa camera come dire di compensazione è il laboratorio di guida al tirocinio. Com'è che funziona? Eh sarete divisi eh in gruppi eh e ciascun gruppo sarà coordinato eh da un assistente eh sociale professionale, nostro collega e che svolge anche la funzione appunto di eh docente e all'interno di questi laboratori verranno discussi i problemi, i casi specifici, eh l'impiego di alcuni strumenti eh che studentesse e studenti vedranno appunto impiegati nel corso del tirocinio. Quindi l'idea è svolgere il tirocinio stare sul campo per così dire e poi dirsi ma che cosa ho visto veramente? Che cosa ho fatto davvero? Eh perché abbiamo agito in questo modo? E queste domande troveranno risposta e approfondimento all'interno dei laboratori eh di guida al tirocinio che sono diciamo degli ambienti capite che sono finalizzati a stimolare una riflessività cioè un ulteriore capite lavoro eh di congiunzione come dicevo prima tra il sapere teorico e appunto l'esperienza eh pratica. Eh ho finito dico soltanto altre eh tre cose velocissime eh eh la prima come eh tanti altri corsi di studio ma il nostro insiste particolarmente in questo le materie professionali eh vengono erogate sono insegnate per parlare in italiano eh da eh colleghi docenti che però sono assistenti sociali e che eh svolgono nella stragrandissima maggioranza dei casi il loro lavoro tuttora nell'ambito del welfare locale cioè nei servizi eh eh della nostra area. La seconda cosa che forse eh volevo dirti che forse non farà piacerissimo ma è così essendo un corso come si dice professionalizzante il nostro ha fatto una scelta ormai da svariati lustri che è una scelta che eh tutto sommato anzi paga molto che è quella della frequenza obbligatoria eh per cui il corso è a frequenza obbligatoria il che significa che sono prese le presenze quotidianamente ahimè eh come succede a scuola eh eh non ci sono esenzioni da quest'obbligo di frequenza non ci sono perdonate santi che tengano eh uno mi dice no lavoro non importa mi dispiace non non ci sono esenzioni se non appunto per motivi eh seri motivi di salute e negli ultimi anni ovviamente eh abbiamo eh esentato ehm studentesse che si trovavano in uno stato di gravidanza questo sì ma il lavoro e qualsiasi altro impedimento purtroppo non viene eh accolto e eh la terza cosa è che per accedere al CDS occorre passare un test d'ammissione il corso di studi è come si dice a numero programmato eh per parlarci chiaro a numero chiuso quindi eh eh ci sono eh negli ultimi due anni è aumentato prima era cinquanta adesso è passato a settantacinque posti quindi si eh fa un test d'ammissione c'è una graduatoria e appunto coloro che eh rientrano nei primi settantacinque posti eh passano in realtà vabbè se volete la finezza eh burocratica sono sessantanove perché eh altri cinque sono destinati a studenti europei cioè non italiani e un posto è riservato a uno studente cinese questo studente cinese non si è mai presentato nel corso dei lustri e quindi questi posti poi dopo vengono rimmessi nel eh diciamo così nel calderone quindi eh alla fin della fiera i posti sono eh eh settantacinque ecco io ho eh concluso se ho ancora un istante ma un istante un istante eh volevo dirvi che ehm ormai da anni stiamo sperimentando con un certo successo ehm l'affiancamento eh dei ragazzi dei ragazzi delle ragazze da parte di due tutor eh è un servizio questo che ci dà molta soddisfazione vediamo che funziona bene ogni anno grazie ai fondi che ci dà eh l'Ateneo riusciamo a selezionare eh due tutor eh della magistrale cioè due eh vostri potenziali diciamo compagni di studio che appartengono al ciclo magistrale che svolgono la funzione di tutor per cui eh generalmente istituiscono gruppi di studio per gli esami un po' più ostici per esempio statistica ecco qui lo dico e qui lo nego o di o i diritti qui lo dico e qui lo nego ci sono dei gruppi di studio che sono coordinati eh eh da questi ehm due vostre colleghe e che insomma vi 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 seguono vi possono dare qualche dritta eh come si fa la tesi eh qualche dritta anche burocratica insomma sono come dire due tutor per l'appunto due pari che eh di solito si pensa no che coi professori c'è un rapporto gerarchico per cui un po' più difficile no chiedere le cose rompere il ghiaccio eccetera eccetera abbiamo avuto come altri colleghi altri cds la pensata insomma di 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 istituire no questa questo servizio chiamiamolo così e devo dire che insomma ci sta dando stanno soddisfazione insomma funziona questo è quanto che dite posso chiudere? Sì. Grazie. Grazie al professor Mori non so se già vi sono arrivate delle domande delle questioni così flash oppure se ehm vogliamo ascoltare un altro corso di studi qualcuna o qualcuno anche perché il professor Mori tra un poco eh ci lascerà per impegni istituzionali questo però non significa che non potete inoltrare questioni domande perché per esempio l'ufficio orientamento troverete la mail ovviamente sul sul sito del dell'università può raccogliere qualsiasi altra vostra domanda che magari questa notte nei vostri incubi notturni avrete e potrete eh inviare all'ufficio orientamento e chi perché purtroppo oggi non tutti i professori saranno presenti fino alle ore 17 ecco uno di questi professori è il professor Mori perché ci deve tra un pochino lasciare. C'è una domanda? Eccola. Eh io volevo chiedere serve l'anche il la partecipazione per il talk in particolare per il percorso? Grazie della domanda sì ehm allora il il test è sempre stato fatto diciamo in casa fino all'avvento della pandemia poi con la pandemia eh ci siamo eh avvarsi dei servizi del Cisia che è appunto il consorzio che organizza il talk e eh ci siamo abituati troppo bene quindi continuiamo a delegare lo confesso eh la somministrazione del del test al talk però ti ringrazio della domanda la ringrazio della domanda perché fino a quest'anno ecco mi ero scordato di dirlo perdonatemi una cosa importante fino a quest'anno avevamo ehm ehm impiegato il talk su che è il talk scienze umane eh non so se sto parlando arabo per molti il talk è un test che viene no usato per l'ammissione ai corsi in numero programmato non solo quelli ma noi lo usiamo in questo senso ed è un test che viene erogato da un ente che si chiama Cisia un consorzio e si può fare online si può fare in presenza eccetera il talk su vuol dire talk scienze umane cioè il test eh per i corsi nell'ambito delle scienze umane da quest'anno il Cisia sta eh ha realizzato ha già sperimentato e sarà disponibile a breve e abbiamo scelto stiamo per scegliere di avvalerci di eh il talk SPS cioè scienze politiche sociali che non è il talk e eh quello che adesso trovate nel sito del Cisia che va sotto la dicitura se non mi inganno eh scienze economiche e politiche eh perché quello è più eh spinto diciamo sul lato economico è in preparazione proprio un talk specifico per le scienze politiche sociologiche diciamo così e eh servizio sociale ha scelto eh appunto di avvalersi del talk e e scusate dico anche l'altra cosa che mi ha suggerito la collega ovviamente qualche assenza si può fare eh non è che siete obbligati non è che arriva la camionetta dei carabinieri ogni mattina si può si può fare esatto si può fare una percentuale di assenze però eh non so se capite il il concetto cioè c'è un corso che viene orogato no per esempio nel primo semestre incomincia il corso a fine settembre eh il corso è di trentasei ore avete un monte massimo di assenza se voi sporate quel monte massimo il docente è tenuto a non ammettervi all'esame per cui dovete saltare l'anno e dovete ripetere il corso l'anno dopo fino a quando appunto non riuscite ad avere il numero di presenze necessarie per essere ammessi alla prova d'esame non so se è chiaro eh questo è il punto forse è una domanda molto tecnica perché io sono già all'università ma ehm questo significa che ci sono dei corsi a sbarramento quindi ha appena detto che se non se si fanno delle assenze non si può essere ammessi all'esame quindi bisogna ripetere il corso l'anno dopo significa che per esempio diceva che ci sono tre corsi di metodi eccetera prima sono corsi a sbarramento per cui se non si passa metodi 1 non si può fare metodi 2 per esempio perdona non ho capito a pagamento no a sbarra non capivo sì 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 ci sono scusi mi perdoni non è che diceva pagamento no 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 certo ehm sì ci sono degli ci sono delle propedeuticità eh e sono tutte quante elencate nel 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 regolamento didattico è molto chiaro se aprite il sito guardate non soltanto quelli di metodi e tecniche ci sono delle propedeuticità che ad esempio riguardano altri corsi eh sia di diritto sia di sociologia per cui non potete fare sociologia della famiglia se non avete fatto prima eh sociologia generale sociologia e ricerca sociale eh ci sì ci sono delle propedeuticità sì sì ma non a pagamento grazie se non ci sono altre domande possiamo ringraziare il professor Luca Mori che forse starà qui ancora un pochino eh grazie e passiamo ora la parola alla professoressa Daniela Raccanello che ci illustrerà la laurea triennale in scienze pedagogiche della formazione grazie. Comeriggio si sente sì? Grazie per la parola, grazie per essere arrivati qui ad avere un po' di informazione in più eh rispetto ai diversi corsi offerti dal nostro dipartimento. Io appunto sono Daniela Raccanello, sono una psicologa, mi occupo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione e attualmente sono al pari del collega la referente, la coordinatrice per una serie di aspetti didattici, organizzativi del corso di laurea in scienze psicologiche per la formazione che è un corso della classe delle lauree in scienze tecniche psicologiche che a parità di qualsiasi altro corso di laurea triennale in questa classe in Italia permette l'accesso a lauree magistrali che si chiamano L51 di psicologia. Perché dico questo? Perché come vedete dal nome del corso di studi a Verona adesso è attivo un corso che forma futuri psicologi che è un pochino focalizzato sulla formazione. Anche se c'è questo vincolo, questa caratterizzazione, di fatto i crediti che voi acquisite con i corsi, con gli insegnamenti per cui sostenete gli esami all'interno di questo corso vi permettono poi potenzialmente di scrivervi a qualsiasi percorso di laurea magistrale. Questo l'anticipo e dopo se volete lo riprendo anche con più dettagli. Queste sono le informazioni che trovate nel sito. È un corso, è una laurea triennale quindi sapete già bene, è di tre anni. C'è la possibilità dell'iscrizione part-time, questo è possibile in realtà per tutti i corsi che vengono presentati. L'accesso anche qui è programmato e dopo darò più indicazioni rispetto a quelle presenti in questa slide, ma comunque i numeri per questo corso di studi sono più alti rispetto a quelli, i posti sono di più rispetto al corso che è appena stato presentato. La sede è quella di Verona, la lingua è l'italiano e questa è un pochino la struttura del corso di studi che accedendo al sito trovate. C'è un presidente per un corso di studi, il mio nome è quello appunto indicato rispetto al ruolo di referente del corso di studi, ma trovate per esempio, guardate l'ultima indicazione, che esistono nella struttura organizzativa dei nostri corsi di studio anche degli organismi che si chiamano per esempio commissioni paritetiche, docenti, studenti. Vi dico questa cosa solo per sottolineare per questo e per gli altri corsi di studio del nostro dipartimento che ci sono una serie di posti in cui abbiamo la possibilità di sentire man mano direttamente anche la voce degli studenti rispetto a quello che funziona bene, ogni tanto c'è, ma anche rispetto a quello che può non funzionare all'interno di questi percorsi per arrivare appunto a soluzioni migliorative. Cosa vi presento io? Un pochino le stesse informazioni, lo stesso tipo di informazioni che vi è stato appena presentato con materiali messi in ordine all'interno di slide, ma la logica è un pochino la stessa. Probabilmente voi siete interessati a capire che tipo di lavoro fa una persona che esce con un certo titolo di studi, che cosa deve studiare man mano e come fa ad entrare. Le informazioni che trovate nelle slide che presento riguardano quindi in primo luogo informazioni relativamente al profilo professionale e agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati e le laureate. In secondo luogo ci sono informazioni sugli obiettivi formativi specifici del corso e c'è una descrizione del percorso formativo. In terzo luogo ci sono alcune indicazioni relativamente alle conoscenze richieste per l'accesso. Vi anticipo che le slide che vi presento non sono slide fatte bene perché sono slide con troppe informazioni e non le commenterò tutte. So che comunque l'incontro è registrato e ho deciso di presentarvi tante informazioni perché le informazioni che trovate nel sito adesso e tra poco non sono quelle aggiornate. Perché? Perché il nostro corso di laurea in scienze psicologiche a parità di tutte le altre lauree triennali in scienze psicologiche in questo momento storico in Italia è caratterizzato da alcuni cambiamenti per cui dall'anno prossimo inizierà un nuovo ordinamento che permetterà al termine del percorso della laurea magistrale di avere l'accesso all'esame di Stato che per esempio gli assistenti sociali devono fare dopo aver conseguito il titolo all'interno del corso di studi. Riepilogo. In Italia tutti i corsi di studio di psicologia sia triennali sia magistrali dall'anno prossimo attiveranno dei percorsi che vengono chiamati di laurea abilitante. Significa che se fino a ieri bisognava fare tre anni in scienze psicologiche e poi eventualmente fare l'esame di Stato per l'accesso all'albo B. Poi volendo si potevano fare due anni di corso magistrale per accedere dopo il conseguimento del titolo all'esame di Stato per l'albo A. Dall'anno prossimo e probabilmente ci saranno anche una serie di miglioramenti e di percorsi un pochino più corti, dall'anno prossimo i corsi di psicologia diventano lauree abilitanti per cui prima del termine dei due anni di laurea magistrale dovrete fare l'esame di Stato all'interno del corso di studi. Le cose si girano. Si fanno i due anni della magistrale, l'esame di Stato non sarà più fatto dopo la laurea per l'albo A ma sarà fatto prima. Anzi, l'accesso al conseguimento della laurea implicherà aver la sua faccia, grazie, ma servono i feedback dal pubblico, la faccia sua perplessa è indicativa, per cui se avete dopo chiarimenti su questo sono qui. Quindi l'esame di Stato sarà fatto all'interno del percorso di laurea magistrale. A fronte di questo cambiamento complessivo nel percorso, dall'anno prossimo i piani di studio sia delle triennali che delle magistrali in Italia stanno cambiando. Quindi riprendo quello che ho detto prima, le informazioni presenti oggi nel sito non sono ancora quelle per l'anno accademico 2023-2024. Quindi se state spulciando il sito per avere informazioni specifiche, sapete che dovete aspettarvi dei cambiamenti. Nelle slide ho messo le informazioni aggiornate, perciò commento alcune cose. Se volete leggervi con calma tutte le informazioni, le ritrovate dalla registrazione. Prima di passare a tutte queste informazioni, volevo specificare due cose rispetto alla figura dello psicologo, che è quella per cui vi formate se vi iscrivete a questo corso. Ripensando alle principali competenze o attitudini, se volete, che possono essere sintetizzate nel giro di un paio di minuti, sono due gli aspetti che mi sono venuti in mente. Ha senso che si iscriva uno studente a questo corso se è interessato a lavorare interagendo con le persone. Perciò se vi piace interagire con le persone, e anche se non siete tanto capaci, una serie di abilità comunicative, sociali, si possono apprendere, allora questo è un corso in cui potete avere poi la possibilità di costruire una professione in cui interagite con le persone. Perché ci tengo a sottolineare questo? Perché usciamo da due anni di pandemia, in cui anche per gli studenti dei nostri corsi moltissime interazioni sono diventate virtuali e è molto difficile oggi tornare a pensare che tante delle interazioni possono e devono avvenire in presenza. Perciò all'interno uno psicologo che decide di studiare queste cose e una persona che si orienta verso una professione di questo tipo ha bisogno di sapere che dovrà avere a che fare con le persone. Primo punto. Secondo punto, che sembra contraddittorio ma in realtà non lo è, sottolineo che tutte le conoscenze sul nostro funzionamento psicologico che studierete se vi iscrivete a questo percorso sono conoscenze che otteniamo tramite l'uso del metodo scientifico. Sembra un pochino contraddittorio, vi sto dicendo dovrete avere a che fare con le persone, che è una cosa un pochino più umanistica, relazionale se volete, ma sto anche dicendo se vi iscrivete a questo corso dovrete studiare ricerche in cui i dati sono stati raccolti secondo il metodo scientifico che implica formulare un'ipotesi, raccogliere dei dati, elaborarli, arrivare a confermare o meno le ipotesi iniziali. E tutti questi dati ci dicono qualcosa su cosa, quali sono le conoscenze principali che studierete? Quelle sul funzionamento del comportamento e dei processi mentali degli individui. Quando parliamo di processi mentali parliamo di aspetti cognitivi, i pensieri, gli aspetti emotivi, tutto il mondo delle emozioni, gli aspetti sociali, tutto quello che riguarda le interazioni, eccetera. Quindi questi se io, e più o meno tutti abbiamo poco tempo, se mi viene chiesto di selezionare un paio di aspetti fondamentali, questi sono due aspetti che mi sembra possano essere importanti nel momento in cui si sceglie se entra a prendere questo percorso piuttosto che altri. Questo dicevo un esempio di slide, non fatta bene, ma mi serve lasciarvi le informazioni. Allora, primo punto, qual è il profilo professionale per cui ci si forma? Professionisti nelle scienze tecniche e psicologiche in contesti lavorativi e educativi, che permette di accedere all'albo B degli psicologi. Come ho anticipato, l'esame di Stato per il percorso relativamente ai primi tre anni è dopo il conseguimento del titolo. A livello ministeriale, a livello nazionale, non ci sono cambiamenti su questo. Quindi, se vi iscrivete, vi aspetta al percorso di tre anni, il conseguimento della laurea e dopo il possibile accesso all'albo B. quali sono le attività professionali, quelle che potete fare e dove, in strutture sia pubbliche che private, nelle istituzioni educative, nelle imprese, nelle organizzazioni del terzo settore, in servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni, alla comunità, per l'assistenza e la promozione della salute, relativamente a una serie di argomenti, che sono la valutazione psicometrica, che è un pochino la stessa cosa che ha detto il collega, l'uso della statistica, la capacità di leggere i dati, utilizzarli, raccoglierli ed elaborarli per capire qualcosa di più sul funzionamento psicologico delle persone, ma poi anche aspetti che riguardano la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo, la psicologia della formazione, dell'educazione, eccetera. Le parti indicate in grassetto qui vi dicono quello che ho anticipato. La figura professionale formata da questo corso di laurea può svolgere tutte le diverse attività elencate in autonomia, nei limiti e riferimento alle competenze acquisite nel triennio, perché in alcuni casi lo psicologo triennale deve essere supervisionato da quello magistrale, ma si può anche continuare il percorso accedendo poi alla laurea magistrale, dicevo prima, la classe delle lauree LM51, per poi accedere all'albo A, dicevo, all'interno direttamente degli anni della laurea magistrale. Se voi spulciate i documenti, trovate che le codifiche ISTAT relativamente alla professione per cui vi formate sono queste qui e il mio invito è non limitarsi a questi ruoli professionali, ma capire bene come può essere continuato il percorso di formazione di una persona che ha una laurea triennale in scienze psicologiche. Punto due, che cosa studiate? Le conoscenze riguardano i diversi settori della psicologia e come anticipavo i diversi metodi di indagine scientifica. Come detto all'inizio, qui a Verona c'è un focus particolare sulle conoscenze che riguardano la formazione, ma in ogni caso con questo corso avete tutti i crediti di psicologia relativamente a tutti i crediti che vi servono per iscrivervi sia al corso di laurea magistrale di psicologia per la formazione di Verona sia eventualmente ad altre lauree magistrali focalizzate su altri argomenti. Trovate un pochino qui le diverse branche della psicologia su cui è focalizzato il corso. Le conoscenze riguardano i processi percettivi, cognitivi, comunicativi, linguistici, sociali e relazionali, affettivo e emotivi di apprendimento con sempre particolare attenzione, come dicevo, ai contesti formativi. Sono quattro le aree in cui sono raggruppati gli insegnamenti. La prima area riguarda i fondamenti della psicologia. Per chi un po' di psicologia l'ha già vista, ci si occupa di psicologia generale, psicobiologia, psicologia dello sviluppo, psicologia dell'educazione, psicologia clinica e dinamica e anche di metodologia della ricerca. Poi c'è una seconda area di discipline e di insegnamenti che sono focalizzate sulla formazione e riguardano principalmente la psicologia sociale e la psicologia del lavoro e delle organizzazioni. ci sono poi anche altre discipline, ci sono altre due aree, una serie di discipline pedagogiche focalizzate sulla formazione e poi alcune altre discipline di supporto che ci servono a dare conoscenze, per esempio di tipo giuridico, ma anche antropologico, sociologico, di geografia e anche di informatica. Il percorso implica anche qui lo svolgimento di un tirocinio, c'è stato un piccolo aumento nella quantità di ore che dovete fare con il cambiamento dell'anno prossimo, nel sito trovate che il tirocinio ha 9 CFU, 225 ore, invece diventeranno 10, 250, c'è una prova finale, come spesso accade nei corsi di laurea triennale, e per quanto riguarda le lingue viene richiesto un livello B1 in una lingua della comunità europea. Vi lascio le slide da riguardare con calma se volete avere dettagli sui contenuti delle materie che si studiano. Tutti questi riguardano i dettagli, non so quanto tempo ancora, 5 minuti, 10, 3, 5 minuti. Quelli che vi ho proiettato riguardano un pochino gli elenchi dettagliati delle competenze che acquisite nei diversi insegnamenti che ho elencato e poi vi lascio anche questo che è il piano di studi. Perché ve lo lascio? Potevate guardarlo nel sito, se guardate il sito trovate che per esempio nel primo anno studiate questi insegnamenti qui. Però attenzione, se guardate il sito le cose in rosso non le trovate. Questo è il secondo anno, sono stati approvati dei cambiamenti nel nome di alcuni corsi. E questo è il terzo anno, oltre ad avere cambiamenti nel nome di alcuni corsi, c'è anche l'indicazione relativamente al numero di crediti aumentati per il tirocinio e diminuiti per esempio per la tesi, per la prova finale. Perciò il mio invito è, se volete dettagli specifici e aggiornati, basatevi su queste slide per qualche mese e dopo durante l'anno prossimo anche nel nostro sito compariranno tutte le informazioni aggiornate per l'anno prossimo. Trovate sempre le informazioni dettagliate anche qui sul tirocinio, la prova finale, le scorro e le lascio lì e arrivo al terzo punto. Per quanto riguarda l'accesso vedete che i numeri sono diversi. L'accesso è programmato, ma ci sono più posti rispetto a quelli dell'altro corso di studi. Ovviamente per l'accesso il titolo di studi è quello della scuola secondaria di secondo grado o un titolo equipollente riconosciuto all'estero. Sono richieste per affrontare il test una serie di conoscenze relative a comprensione del testo, ragionamento numerico e verbale, biologia e matematica di base che sono le materie, tra virgolette, richieste nel talk casa di psicologia. Adesso arrivo anche a quello. Per tutti i corsi di studio troverete, prima o poi vi diventa familiare questa espressione, il riferimento agli obblighi formativi aggiuntivi. Che cosa significa? Significa che per iscriversi ai diversi corsi di studio dovete dimostrare di avere delle abilità minime. Come facciamo adesso a verificare se ce le avete? Voi fate il test d'accesso. Entrate. Noi prendiamo il punteggio al vostro test d'accesso. Se è sopra una certa soglia riconosciamo che ce le avete. Quindi solitamente la maggior parte delle persone che supera il test d'ingresso per entrare dimostra anche di avere queste conoscenze minime. si chiamano OFA, obblighi formativi aggiuntivi e ci sono modalità diverse per verificarne il possesso da parte vostra a seconda dei diversi corsi di studio ma la logica un pochino è sempre la stessa. TOLC-PSI è composto da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni appunto relativi a compressione del testo ragionamento numerico verbale biologia matematica di base. Quest'anno si poteva fare il TOLC-PSI a partire da aprile si può fare appunto anche in presenza ma buona parte delle persone l'hanno fatto da casa forse quest'anno aprirà prima l'anno scorso c'era stata una sperimentazione quindi le prime prove erano disponibili da quel momento e consultate i siti dove appunto recuperate le informazioni sui test dopo che sarà uscito il bando per l'immatricolazione per l'accesso a questo corso di studio e trovate tutte le indicazioni per accedere poi ai vari TOLC. Due minuti molto velocemente vi ho appoggiato qui questa slide tanto per dirvi che come dicevo all'inizio ci sono una serie di modalità tramite cui man mano monitoriamo quello che gli studenti pensano del proprio percorso e qui ci sono per esempio alcuni dati relativi alla valutazione da parte degli studenti relativi all'anno accademico 2021-2022 rispondevano su una scala da 1 a 4 quindi complessivamente pare che gli studenti iscritti siano abbastanza molto soddisfatti rispetto a una serie di caratteristiche del corso di studi ma questa slide non mi serve per dirvi questo mi serve per dirvi che man mano ci sono più modalità per avere un riscontro diretto dagli studenti per mettere in atto una serie di azioni migliorative per il corso stesso questo è quanto presumo ci sia lo spazio per alcune domande e rispetto ad alcune cose che ha detto il collega alla fine i tutor che affiancano gli studenti durante il percorso ci sono anche per il nostro corso di studi e un'altra cosa non me la ricordo più guardo domande su questo corso di studi mi scuso visto che prima io insegno anche nell'altro corso non posso fare concorrenza perché insegno anche di lì mi trovo un po' così ma in realtà sottolineo che la frequenza ero quella che diceva che di sottolineare che si possono fare delle assenze per diventare assistenti sociali in realtà purtroppo sottolineo purtroppo per portare acqua a questo corso e non all'altro sottolineo che la frequenza non è obbligatoria è caldamente consigliata frequentare le lezioni di un corso vi dà una serie di risorse e conoscenze e competenze in più rispetto a chi non può frequentare ma il vantaggio è che uno studente lavoratore o uno studente con altri impegni non ha l'obbligo di venire ad ascoltarci in aula finché parliamo entrambi i sistemi hanno pro e contro lo aggiungevo solo come informazione c'è una domanda sì 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 buongiorno mi scusi io sarei interessata all'ambito della sessologia in psicologia volevo sapere se c'era qualche corso riguardante questa disciplina non ci sono insegnamenti specifici di solito si fa riferimento probabilmente all'interno degli esami di psicologia clinica dovrei spulciare anch'io vai a vedere per esempio guarda nel piano di studi attuale se dentro la psicologia clinica non so forse nella psicologia generale può esserci qualche insegnamento che ce l'ha fra fra gli argomenti grazie mille c'è una mano alzata qui io sono interessata al mental coach come come fine laura diciamo devo fare i tre anni più i due giusto cioè la laurea triennale più la laura magistrale mental coach intendi psicologo sportivo allora perché questo è proprio un corso di studi focalizzato sulla formazione perciò la formazione che sia in contesto lavorativo spesso la si pensa ma anche in contesto scolastico ma anche estrascolastico ma anche sportivo è uno dei focus di questo corso di studi dopo uno decide dove fermarsi hai la laurea triennale puoi fare delle cose alcune le fai con la supervisione del laureato magistrale alcune in autonomia poche meno per essere comunque uno psicologo devi iscriverti all'albo B all'albo B oggi si iscrivono poche persone in genere uno punta ad avere i cinque anni però è comunque possibile fermarsi dopo i tre e lavoro una serie di cose si possono fare dovresti fare poi i due anni della magistrale e dentro i due anni della magistrale dall'anno prossimo si ha la possibilità di avere l'esame di stato all'interno appunto perché diventa laurea abilitante e si finisce e si ha già il titolo si ha già l'iscrizione bisogna pagare è una quota piccola bassa quella per l'ordine ma bisogna pagare ma si ha già la possibilità di iscriversi all'ordine vi faccio notare una cosa che in realtà conta moltissimo nel vostro percorso di studi chi si laurea adesso laurea magistrale per poter accedere per poter fare l'esame dell'albo A deve fare un anno di tirocinio post lauream non ne sto parlando perché queste sono le cose della magistrale vi ho detto il minimo però a voi accorcia un anno di formazione questo cambiamento ministeriale perciò il percorso se potenzialmente per arrivare a iscriversi all'albo A era a spanne se uno fa tutto giusto e segue tutti i paletti sei anni tre più due più un anno di tirocinio post lauream si accorcia di un anno e dopo ci sono corsi di perfezionamento master altri percorsi per avere competenze specifiche in quell'area la una domanda la volevo chiedere ma le slide dov'è che verranno pubblicate non so se l'ufficio orientamento le pubblica ma comunque questa lezione l'incontro fino alle 5 è registrato e liberamente accessibile in youtube forse se non ricordo male sì riesco forse a rispondere a questa domanda e ci sarà un video pubblicato che vi porterà direttamente sulla piattaforma di youtube in teoria tra l'altro si trovano anche i video degli anni passati quindi ecco sicuramente verrà pubblicato tutto comunque dalla pagina dell'ufficio orientamento sicuramente riuscite ad accedere al link ecco la parola chiave è orientamento orientamento esatto per cercarlo nell'ambito del se doveste avere difficoltà comunque potete far riferimento anche alla mail dell'ufficio orientamento qui c'è una domanda qui a metà non so se ho capito bene quindi alla fine ci sono due esami attenzione è una cosa complicata anche per noi perché stiamo gestendo i cambiamenti adesso a livello ministeriale l'albo B non ha nessun cambiamento adesso i cambiamenti riguardano solamente l'albo A è stato tolto l'anno di tirocinio post lauream è stato cambiato il tirocinio dentro la magistrale e l'esame di stato è stato inserito dentro il corso magistrale direi che possiamo concludere qui anche per la professoressa Racanello c'è la possibilità di raggiungerla con le vostre domande scrivendo l'ufficio orientamento alla mail dell'ufficio orientamento tra un pochino ci lascerà anche lei ma insomma sarà sempre disponibile poi per ulteriori quesiti direi che ora possiamo passare la parola a professor Massimo Prearo che ci illustrerà la laurea triennale in studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali grazie grazie allora ecco quindi buongiorno a tutte e tutti quindi sono Massimo Prearo docente di scienza politica e rappresento qui la coordinatrice del corso di studi che vi presento oggi in studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali che non poteva essere presente ma io sono docente del corso di studi quindi e ho anche partecipato all'elaborazione di questo corso di studi faccio una premessa anzi prima una nota così lo dico subito poi non mi dimentico le slide che vedete sono già caricate sulla pagina di presentazione del corso quindi le trovate già in calce alla presentazione generale del corso di studi sul sito dell'Ateneo quindi le potete ritrovare lì e poi eventualmente contattarci per altri chiarimenti la premessa che volevo fare invece era che questo corso di studi è un corso di studi nuovo un corso di laurea nuovo all'Università di Verona in particolare il corso di laurea triennale che oggi presento studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali e quindi per esempio non ho statistiche relative agli anni passati perché questo è il primo abbiamo iniziato a settembre il primo anno di questo corso di studi per diverse ragioni la prima è come potete vedere sulla slide per completare un percorso di studi che era già presente all'Università di Verona incardinato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche con il corso di laurea magistrale in Governance dell'emergenza sebbene ci siano questi titoli studi strategici per la sicurezza e Governance dell'emergenza queste due corsi di studi sono dei corsi di studi che appartengono alla classe di laurea di Scienze Politiche quindi la laurea triennale di Scienze Politiche e la laurea magistrale di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali questo cosa significa poi lo ripeterò dopo che per esempio per l'accesso ai concorsi pubblici questi corsi di laurea in quanto corsi della classe di laurea Scienze Politiche danno accesso potete partecipare ai concorsi pubblici però perché si chiamano così e in particolare perché studi strategici negli ultimi anni quindi oltre a voler completare l'offerta formativa quindi chi si iscrive alla laurea triennale in studi strategici può poi completare il percorso con una laurea magistrale se lo desidera qui all'Università di Verona tra l'altro proprio stamattina guardavamo le statistiche invece relative alla provenienza la residenza geografica delle persone che si sono iscritte quest'anno e sono ad oggi circa 200 persone che hanno risposto positivamente alla nostra offerta e la maggior parte delle persone ci sono tre blocchi diciamo geografici il primo ovviamente è quello di Verona del territorio veronese ma ci sono anche Vicenza e Brescia come due blocchi importanti di studenti che si sono iscritti al corso di studi quindi questo significa che nell'analisi che avevamo fatta fatto nel momento di elaborazione del progetto avevamo visto ci eravamo accorti che c'era un po' un buco nel territorio diciamo nel vasto territorio che va da Vicenza a Brescia nella formazione in scienze politiche che era assente soprattutto a livello della laurea triennale quindi abbiamo fatto questa riflessione anche che va in parallelo con un consolidamento del settore di studi politici e sociali all'interno del dipartimento di scienze umane quindi questo corso di laurea va un po' come dire emerge da questo consolidamento di un settore di studi politico sociali che viene da competenze diciamo così ben radicate all'interno del dipartimento di scienze umane e anche da nuove acquisizioni e da un'estensione di cui io faccio parte arrivando appunto come docente di scienza politica e perché abbiamo pensato questo corso di laurea in studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali non vi presento oggi il corso di laurea magistrale in governance dell'emergenza perché credo vi interessi meno ma insomma trovate tutte le informazioni sul sito dell'Ateneo vi parlo del corso di laurea triennale che ovviamente è quello che vi interessa prioritariamente quello che abbiamo la riflessione che abbiamo fatto sulla base appunto dei lavori di ricerca e delle specializzazioni dei docenti presenti nel dipartimento di scienze umane nel settore di studi politici e sociali era quello relativo alle trasformazioni in corso del mondo contemporaneo e alla necessità di formare delle figure e poi quindi anche delle figure professionali che fossero in grado di osservare di analizzare e di comprendere queste trasformazioni e le conseguenze di queste trasformazioni in vari ambiti sociali politico giuridici e istituzionali faccio cito insomma menziono solamente qualche processo che di cui sicuramente avete già sentito parlare magari avete su cui avete già cominciato a riflettere quindi per esempio i processi legati alla globalizzazione cioè al fatto che le relazioni internazionali economiche o giuridico politico e sociali si sono aperte e hanno come dire ricoprono un'ampiezza che è quella del globo del mondo intero e non più solo degli stati e delle nazioni e dei paesi processi di globalizzazione che hanno condotto a trasformazioni nell'ambito economico nell'ambito giuridico internazionale e delle relazioni internazionali se il campo di intervento e di azione non è più lo stato o il livello regionale locale ma è il globo è il mondo allora le relazioni tra stati si modificano cambiano il fatto per esempio che all'interno di questo processo di globalizzazione ci siano delle istituzioni nuove relativamente nuove come l'unione europea per esempio che negli ultimi anni è diventato un attore centrale lo vediamo in questi giorni in particolar modo nell'attualità di questi giorni ha cambiato le relazioni il modo in cui gli stati si relazionano gli uni nei confronti degli altri e anche quello che succede all'interno degli stati che è dipendente da quello che succede nel campo delle relazioni internazionali i processi di democratizzazione cioè il fatto che la democrazia si sia estesa come ambito anche desiderato da alcuni popoli o che venga esportato addirittura in certi in certe regioni del mondo processi anche menziono così un po' velocemente brevemente processi che nella letteratura scientifica chiamiamo oggi di de democratizzazione che sono un po' come dire la reazione a quel processo di estensione della democrazia anche un po' forzata in alcuni casi che ha prodotto quello che viene definito il backsliding cioè un po' un ritorno indietro una reazione per cui anche all'interno dell'Unione Europea per esempio vediamo emergere delle forme di governo che alcuni studiosi alcuni studiosi definiscono di democrazia illiberale cioè non più fondata sul principi liberali di libertà giustizia uguaglianza ma su principi liberali che mantengono le istituzioni politiche della democrazia ma non promuovono i principi di libertà giustizia uguaglianza anzi vanno quasi nella direzione contraria ecco tutti questi processi mi viene in mente anche il cambiamento climatico che produce per esempio flussi migratori importanti e quindi conseguenze importanti politico e sociali all'interno degli stati e nelle relazioni tra stati a livello globale e mondiale ecco questa riflessione queste trasformazioni su cui le docente i docenti che insegnano all'interno del corso di studi strategici per la sicurezza e le relazioni internazionali hanno lavorato in questi anni ha portato a voler proporre e consolidare questo ambito disciplinare attraverso questo corso di laurea triennale di studi e per appunto colmare un po' un vuoto chiaramente un vuoto territoriale ma anche un vuoto formativo perché questo è un po' il primo corso di studi che mette insieme gli studi strategici e le scienze politiche con l'idea di formare delle figure che abbiano la capacità non solo militare di entrare all'interno di questi processi e di interagire e di agire all'interno di questi processi ma che abbiano una formazione umanistica socio-politica per comprendere questi processi e interagire e ovviamente potete immaginare che questo progetto è stato ci ha messo circa due anni per emergere e parte in questo anno accademico potete immaginare che la guerra in Ucraina scoppiata all'inizio di quest'anno del 2022 ha in un certo senso come dire è un po' tristemente purtroppo conferito un'attualità politica molto forte a questo corso di studi e per avere un po' discusso con gli studenti e i docenti che hanno iniziato a lavorare da settembre questa questione della guerra in Ucraina ma che non è l'unica guerra che esiste oggi nel mondo ma che sicuramente ha un eco particolare per noi in Europa è al centro anche delle discussioni e del lavoro nei vari corsi e nei vari insegnamenti quindi questo per darvi una descrizione generale del lavoro e del progetto che abbiamo pensato e che parte quest'anno ritornerò poi dopo sugli obiettivi formativi e professionali quello che adesso cerco di illustrarvi brevemente è come cosa si studia all'interno del corso di studi strategici e come è composto l'offerta degli insegnamenti l'offerta formativa allora anzitutto è da sottolineare che in quanto corso di laurea in scienze politiche e insisto su questo perché sebbene si chiami studi strategici è un corso di laurea in scienze politiche come tutti i corsi di laurea in scienze politiche ha un approccio multidisciplinare e interdisciplinare per cui si lavora si studia si studiano diversi ambiti sociologico giuridico politico economico poi vedrete nel dettaglio e filosofico diviso in tre anni ovviamente essendo una laurea triennale per cui nel primo anno si acquisiscono delle competenze di base fondamentali su cui puoi costruire al secondo e al terzo anno delle competenze un po' più specifiche e un po' più approfondite dettagliate accompagnate come già è stato sottolineato per altri corsi di laurea ma importanti anche per questo corso di studi da tirocini in enti convenzionati con l'Università di Verona tra cui per esempio cito solo questo perché è specifico di questo di questo corso di studi un centro di eccellenza della Nato in cui lavorano degli studenti che si sono laureati nella laurea magistrale di governance dell'emergenza e che hanno con cui abbiamo stabilito un partenariato vengo al dettaglio degli insegnamenti nel primo anno dicevo abbiamo degli insegnamenti fondamentali di diritto economia economia politica sociologia generale storia contemporanea e teorie del conflitto quindi insegnamenti in cui si pone la struttura fondamentale della specializzazione in studi strategici e politiche internazionali quindi molte discipline in concorsi come vedete di crediti che danno nove crediti quindi sono corsi da 54 ore quindi corsi in cui si lavora veramente per costruire consolidare le basi al secondo anno abbiamo sempre con un approccio multidisciplinare dei corsi però più specializzati quindi per esempio scienza politica e studi strategici che è il corso che insegno io che appunto applica gli studi strategici alla scienza politica e applica la scienza politica nell'ambito degli studi strategici sottolineo qua al secondo anno come vedete ci sono degli insegnamenti in inglese quindi una delle specificità del corso di laurea è che alcuni insegnamenti non tutti sono tre quattro insegnamenti sono erogati in lingua inglese questo perché la questione linguistica è molto importante nelle scienze politiche nelle relazioni internazionali e quindi abbiamo deciso di adottare questa scelta di fare alcuni insegnamenti direttamente in lingua e al terzo anno si prosegue con questo lavoro di approfondimento e di dettaglio con anche della possibilità di alcuni insegnamenti insegnamenti a scelta una certificazione linguistica che è richiesta di B1 in inglese e inoltre come certificazione obbligatoria che otterrete durante il corso di laurea se non ce l'avete già e una seconda certificazione di B1 in un'altra lingua straniera o di C1 di inglese quindi livello superiore ovviamente con altre attività scelta il tirocinio chiudo semplicemente molto velocemente per dire che le figure quindi dicevo le figure che abbiamo l'intenzione di formare sono figure che sono in grado di comprendere le situazioni di rischio le situazioni di vulnerabilità le situazioni emergenziali e di crisi e che sono in grado di intervenire di analizzare e di intervenire in quelle situazioni quindi figure professionali innovative che sono nuove che sono emerse negli ultimi anni tipo i strategic advisory risk manager travel risk manager eccetera che in generale operano in contesti nazionali e internazionali pubblici privati nell'ONG nell'ambito della cooperazione internazionale dello sviluppo eccetera dicevo la possibilità di fare dei concorsi pubblici con la laurea in scienze politiche e di proseguire a livello magistrale ultimi 30 secondi per precisare che contrariamente ai primi corsi di laurea che sono stati presentati il corso di laurea in studi strategici non prevede un test di ingresso quindi non c'è nessun test di ammissione prova di qualsiasi tipo è accesso libero si accede semplicemente con il titolo di scuola secondaria superiore l'unica diciamo prova che viene realizzata è all'interno del una volta iniziato il corso con quella che viene chiamata prova dei saperi minimi quindi non è una prova di ammissione ma è una prova di comprensione del testo in inglese e in italiano che permette semplicemente di verificare la capacità minima di comprendere un testo in italiano e in inglese è una prova che viene fatta più volte durante l'anno quindi se non si passa la prima volta se non si riesce a passare la prima volta si riprova e in caso non si riuscisse a passare c'è una possibilità di c'è un diciamo un lavoro di tutoraggio con dei docenti per riuscire a passare la prova dei saperi minimi quindi non è una prova ostativa è una prova che bisogna passare ma che a cui in caso ci fossero delle difficoltà per cui siete accompagnati per arrivare al termine grazie grazie anche di questa presentazione se ci sono delle domande delle informazioni per questo nuovo appena nato corso di studi il professore eccolo una domanda emily eccola là e arriva buon pomeriggio innanzitutto vorrei sapere riguardo l'obbligo di frequenza questo corso come funziona come non c'è obbligo di frequenza e quindi c'è la possibilità anche eventualmente incoraggiata di frequentare se possibile perché ovviamente c'è la possibilità di interagire con l'AO con il docente però non c'è nessun obbligo e in generale c'è anche la possibilità di recuperare le lezioni attraverso registrazioni quello poi è un po' a discrezione del docente però c'è un po' un orientamento nel cercare di facilitare l'accesso alle lezioni in ogni caso non c'è obbligatorietà buon pomeriggio e volevo chiedere se ci fosse la possibilità dal secondo al terzo anno di partecipare all'Erasmus in altre università che aderiscono allo stesso corso di studi che per l'appunto appena presentato grazie come per tutti i corsi di studi dell'università è possibile accedere al programma di scambio Erasmus non ho la lista dell'università anche perché la stiamo costruendo appunto essendo un corso di laurea nuovo e partendo dall'anno prossimo gli scambi sì non posso dire dove esattamente è possibile andare perché lo stiamo stiamo facendo le convenzioni con le università però sì ovviamente certo è possibile non vedo altre mani alzate quindi possiamo procedere per la presentazione di un altro corso che è molto differente rispetto ai triennali e di fatti è la laurea magistrale ciclo unico in scienze della formazione primaria e lo presenta la professoressa Marzia Micheletti siamo a metà del nostro tour de force dopo una mattinata immagino di scuola per tutte e per tutti compresi noi veramente siamo i nostri corpi cominciano ad assumere delle posizioni un po' di stanchezza ma è importante così rimanere ad ascoltare anche le ultime tre realtà quindi una laurea magistrale ciclo unico in scienze della formazione seguirà la laurea triennale in scienze dell'educazione per chiudere poi con la laurea triennale in filosofia d'accordo? questa sarà la scaletta che ci rimane prego bene buon pomeriggio a tutte e a tutti io sono Marzia Micheletti sono una tutor organizzatrice all'interno del corso di scienze della formazione primaria e sono qui a nome del professor Girelli che non ha potuto essere qui in questa giornata bene il corso di scienze della formazione primaria è un corso a ciclo unico significa della durata di cinque anni ed è un corso professionalizzante che cosa significa un corso professionalizzante è l'unico corso che permette di accedere all'insegnamento cioè alla professione docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ed è quindi un corso che ha un accesso programmato programmato a livello nazionale a livello del ministeriale e nella regione veneto sono stati sempre attribuiti 300 posti in questi ultimi due anni sono cresciuti e sono diventati 350 250 posti nell'Ateneo di Padova e 100 posti nell'Ateneo di Verona che cosa richiede la professione docente significa che cosa richiede diventare insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria innanzitutto una preparazione all'interno dei saperi disciplinari nei primi anni soprattutto il primo secondo anno vengono affrontati i fondamenti e la didattica di molte discipline come fondamenti didattica della matematica 1 2 3 i fondamenti didattica della fisica della chimica dell'educazione ambientale della storia linguistica letteratura italiana e questi saperi disciplinari vengono poi affiancati da altri insegnamenti che si possono collocare nell'area pedagogica psicologica e dove imparerete ad affrontare come si insegna non soltanto che cosa ma come si insegna e quindi affrontate l'insegnamento di attività e metodi oppure metodologie didattiche attive o tecnologie per la didattica progettazione curricolare e valutazione per affrontare poi negli ultimi anni al quarto e quinto anno l'ermeneutica delle pratiche educative oppure ricerca partecipata a partire quindi ecco ripeto la competenza disciplinare ma anche le competenze metodologico didattiche però per diventare insegnanti di scuola primaria di scuola dell'infanzia pensiamo che eh occorra anche avere una certa passione per l'insegnamento e soprattutto perché è questa passione per far fiorire le potenzialità di ogni bambino di ogni bambino che accogliamo a scuola dai 0 ai 3 anni o dai 6 ai 10 anni la nostra professione quando entriamo nella scuola è una professione plurale e richiede quindi molte capacità di condivisione e di collaborazione con chi opera con noi nel contesto che cosa significa che noi ci troveremo a lavorare dico noi perché io sono un insegnante sono in prestito all'università per seguire gli studenti che scegliono questo percorso di studi eh che ci troveremo a lavorare in un team di professionisti della scuola eh ci troveremo a lavorare con chi rappresenta l'istituzione e quindi tutte le norme che governano la scuola ma anche con il dirigente scolastico con la comunità la comunità significa il territorio in cui si trova la scuola il contesto in cui si trova e le famiglie quali famiglie le famiglie dei nostri alunni quindi è per questo noi la definiamo una professione plurale e adesso passo alla strutturazione del corso eh il corso prevede le lezioni presso l'università la sede universitaria tenute dai docenti e le lezioni non sono obbligatorie eh il corso però ha eh un numero importante importante di ore dedicate ai laboratori laboratori che sono abbinati a molti insegnamenti sono più di venti e diciamo che i laboratori rappresentano la cerniera di congiunzione tra la parte teorica che viene insegnata durante le lezioni e quello che voi potete sperimentare osservare eh nella nel tirocinio a scuola quindi all'interno dei laboratori imparerete come si insegna la matematica come si può insegnare l'italiano come eh come ci si può prendere cura dei bambini come eh è importante progettare un intervento didattico e valutarlo e e questi sono attività obbligatorie sono attività obbligatorie che sono distribuite dal primo al quinto anno del corso di laurea anche il tirocinio è un'attività obbligatoria ed è rappresenta un numero consistente di ore sono 600 ore di tirocinio a partire dal secondo anno nel secondo e terzo anno sono riservate 100 ore di tirocinio 100 al secondo 100 al terzo a partire dal quarto anno si è data una progressiva importanza a questo percorso per cui sono riservate 175 ore al terzo anno e 225 al quinto in totale sono 24 crediti formativi nel tirocinio siete accompagnati sì siete accompagnati da figure professionali della scuola il tirocinio si svolge nelle scuole nelle scuole paritarie o statali del territorio del vostro territorio perché cerchiamo di accontentare le esigenze degli studenti che afferiscono a tre regioni per l'università di Verona il Veneto in particolare la provincia di Verona e Vicenza poi ci sono molti studenti che provengono dal Trentino Alto Adige e anche dalla regione Lombardia che provengono dalla da Brescia dalla città di Brescia e altri dalla città di Mantua più o meno questa è l'utenza del nostro corso di laurea quindi cerchiamo di collocarvi negli istituti comprensivi oppure nelle scuole dell'infanzia del vostro territorio e qui entrate a scuola in una classe in una sezione e siete accompagnati o accompagnate da una tutor dei tirocinanti ossia l'insegnante che vi accoglie in classe o in sezione tutto il tirocinio che svolgete a scuola è accompagnato dal tirocinio e questo si chiama tirocinio diretto è accompagnato dal tirocinio indiretto che si svolge presso la sede universitaria e anche qui siete accompagnati da tutor da tutor coordinatrici o coordinatori che vi accolgono in gruppi territoriali ogni annualità 100 studenti viene suddiviso in tre gruppi territoriali sono insegnanti che vengono distaccate dal servizio sono in prestito a tempo in semi esonero quindi a tempo parziale presso l'università e che vi permettono di preparare il tirocinio diretto ma soprattutto di riflettere sul ciò che osservate e ciò che potete sperimentare a scuola e poi ci sono le figure come la mia figura o quella della mia collega qui presente di Nadia tutor organizzatori organizzatrici che organizzano insieme ai docenti ai referenti del corso il percorso di tirocinio quello che si svolge presso l'università l'indiretto e quello che si svolge presso le singole istituzioni scolastiche per accedere a questo corso è necessario superare il test di emissione i primi 100 possono iscriversi al corso di scienza della formazione primaria è un test che si svolge a livello nazionale la data è fissata dal ministero solitamente entro i primi 15-20 giorni di settembre l'università pubblica sempre il bando per poter iscriversi al test vi raccomandiamo di leggere molto bene il bando perché molte informazioni le trovate potete andare a consultare il bando degli anni precedenti perché non sono così significative le modifiche che vengono apportate e vi informiamo anche che l'università di Verona durante l'estate propone dei corsi di preparazione al test questi corsi di preparazione al test vi permettono di affrontare un test d'accesso che non è sempre semplice e quindi di ottenere dei buoni risultati per aumentare il vostro punteggio in graduatoria noi consigliamo vivamente di presentare una certificazione linguistica però data da enti certificati dal ministero perché ad esempio avere una certificazione linguistica di B1 vi consente di aggiungere al vostro punteggio tre punti un B2 cinque punti e questo vi permette di collocarvi in una buona posizione in graduatoria dico questo perché le domande di partecipazione al test sono sempre molto numerose anche chi proviene da altri da altri corsi ha già una laurea possiede già una laurea può iscriversi a scienza della formazione primaria ma è sempre necessario il superamento del test iniziale nel momento in cui viene presentata la domanda potete fare anche la domanda di riconoscimento dei crediti già acquisiti nel precedente corso di laurea c'è una commissione che valuta appunto il gli esami che avete sostenuto non sempre vengono riconosciuti in toto in quanto c'è sempre la parte della didattica che dovete sostenere all'interno del nostro corso di scienza della formazione primaria e ovviamente venite accolti se ci sono nelle annualità per cui avete e siete in possesso dei crediti ma qualora ci siano posti disponibili altrimenti dovete iniziare dal primo anno del corso di scienza della formazione primaria si può passare anche al terzo anno da scienze dell'educazione a partire da questo anno accademico anche qui occorre aver superato il test avere tutti i requisiti del bando e poi la commissione verificherà anche qui la disponibilità dei posti e la domanda deve essere presentata per il riconoscimento crediti quando presenterete la vostra immatricolazione vi ringrazio per l'attenzione una cosa che ho dimenticato la ricordo ora che il percorso di tirocinio ha degli sbaramenti significa che può accedere ad esempio al tirocinio inizio al secondo anno ma può accedere soltanto lo studente o la studentessa che abbia maturato almeno 40 crediti formativi così pure l'accesso al tirocinio del terzo anno e lo studente o la studentessa deve aver maturato 84 crediti formativi 135 e poi 184 il corso prevede l'uscita con due elaborati la relazione finale di tirocinio e la tesi di laurea aggiungo un'altra cosa da cinque anni e più è stato sperimentato all'interno di questo corso il percorso di service learning nel quarto e nel quinto anno che è stato ideato voluto dalla professoressa Mortari e permette quindi a uno studente di laurearsi facendo ricerca a partire dal percorso di tirocinio di quarta e quinta annualità grazie grazie anche qui ci sono delle domande Emily là in fondo grazie allora lei ha detto che il test d'ingresso la data è unica e viene data dal ministero scusi però allo stesso tempo io volevo chiedere se quindi ha unificato il test cioè se non entra in Ruona ho la possibilità di entrare da qualche altra parte no non è come medicina ma invece ha detto che in totale il Veneto offre 300 posti sì non è che ci sia la possibilità se non entra in Ruona di entrare a Padova neanche quello no sono due sedi due corsi autonomi mi pare di non vedere altre manine mani ah sì prego scusi da quello che ho capito questo corso non comprende la fascia di età 3-6 anni quindi la scuola materna ah sì ah ok fino alla scuola primaria sì da 3-6 anni non so se ho detto sbagliato prima è da 3-6 anni scuola dell'infanzia e da 6-10 anni scuola primaria eh salve magari qualche informazione sulle sulle materie che si andranno a svolgere non ho non ho sentito scusi informazioni sulle materie ma che che magari se se vuoi riprenderle sì allora eh le materie sono i fondamenti e la didattica di delle discipline significa matematica fisica chimica educazione ambientale scienze ambientali eh l'italiano la lingua italiana lingua linguistica letteratura italiana la storia storia antica eh queste sono le le discipline anche mh eh l'educazione motoria mh eh arti grafiche visive ehm educazione al suono la musica fondamenti didattica della musica scusate ho presente la vecchia denominazione dei corsi quindi ho a volte le mescolo però sono tutte le discipline che vengono insegnate alla scuola primaria e ovviamente ogni insegnamento affronta sia eh la didattica per la scuola dell'infanzia sia la didattica per la scuola primaria e poi ci sono gli insegnamenti di area pedagogica di area psicologica e tutti ehm gli insegnamenti che riguardano gli aspetti metodologici va bene potete visionarle nel sito come avete visto prima ha mostrato anche la professore Sara Canello trovate anche per la scienza la formazione primaria tutti gli insegnamenti distinti nel nei cinque anni eh buon pomeriggio ehm prima ha parlato di ehm cambiare da scienza della formazione primaria a scienza dell'educazione eh a viceversa non ho capito bene qual è la differenza appunto perché vi confondo come sono due corsi diversi sono due corsi diversi poi vi verrà presentato l'altro corso eh va bene sì sì tra pochissimo sempre sempre riguardante a spostarsi da scienze dell'educazione a scienze delle formazione una volta che ho fatto i tre anni di scienze dell'educazione mi voglio spostare a scienze della formazione poi ho due anni di scienze della formazione o cinque dipende dai posti disponibili che cosa significa prego no e che cosa significa eh intanto devo fare il test d'accesso se supero il test d'accesso entro in graduatoria nel momento in cui mi matricolo faccio la domanda di riconoscimento crediti c'è una commissione che valuta eh i suoi esami e anche i programmi che lei ha presentato mh e quella commissione può mh valutare il suo percorso e definire che in base agli esami che lei ha sostenuto a scienze dell'educazione può entrare al terzo anno perché ha maturato quel numero di crediti eh non è detto però che lei entri sicuramente al terzo anno primo perché tutti quelli che fanno la domanda vengono posizionati in una graduatoria e in base ai posti disponibili significa che in quell'annualità alcuni studenti non hanno proseguito il percorso dei studi per cui non abbiamo più i cento studenti ma ci sono dei posti liberi lei può essere iscritta direttamente al terzo anno una domanda qui buongiorno e volevo chiedere in che cosa consisterà esattamente il test ammissione che materie matematica generale sì anche la matematica anche la comprensione del testo e solitamente quelle di comprensione del testo sono le più complesse cultura generale sono tante però potete visionare i test che sono stati presentati negli anni precedenti quindi avete idea va bene che non variano molto ecco quindi avete una panoramica abbastanza vicina a quello che potrebbe essere e non variano molto anche dai diversi ateneo che fanno riferimento alle stesse agenzie di elaborazione del test se non ci sono altre domande ringraziamo la professoressa Micheletti e ora passiamo a scienza dell'educazione qualcuno mi dia il tempo perché può essere ok bene io sono la referente del corso di studi L19 questa è la sigla corso di studi in scienze dell'educazione sono una pedagogista insegno in questo corso di studi un insegnamento che si chiama servizi educativi e problematiche socioculturali in particolare nell'area della mediazione culturale poi insegno la magistrale di scienze pedagogiche insegno quella parte che è la consulenza educativa e per il servizio sociale quindi che è stato il primo di questi corsi di studi presentati pedagogia della cura io quindi mi occupo di questa di questa parte vi anticipo una cosa che è un po' il life motive del percorso di scienze dell'educazione che nessuno può crescere se non è sognato giusto? se non è sognato dalle persone che ci stanno accanto e lo diceva e lo dice ancora Danilo Dolci è un grande un grande pedagogista della pedagogia possiamo dire sociale popolare allora la figura dell'educatore dell'educatore professionale socio pedagogico è una figura tra virgolette nuova dal punto di vista legislativo abbastanza nuova perché è stata definita da una legge viene conosciuta anche come legge Iori della Vanna Iori che è stata ed è una collega che ha insegnato pedagogia nell'università cattolica di Piacenza e Milano ed è stata promulgata questa legge nel 2017 finalmente c'è una legge che delinea la figura professionale dell'educatore socio pedagogico che cosa dice questa legge dice questo che è quello che abbiamo riportato qui accompagnano gli educatrici e gli educatori delle persone di età differenti quindi appena nati piuttosto che anziani quindi verso il percorso importante e profondo dell'ultima tappa della vita e li accompagnano come attraverso dei processi importanti che sono l'ascolto l'utilizzo anche del corpo l'utilizzo dello sguardo della possibilità di stare in una relazione profonda e di trasformazione e che produce che cosa un agio una possibilità di stare nel mondo consenso consapevolezza di ciò che si è e che si vuole stare che si vuole stare nel mondo a fare che cosa quindi una motivazione un'attivazione una emancipazione mi piace molto la parola più che quella inglese quella spagnola di empoderamento cioè quindi di stare dentro nella possibilità che ciascuno di noi ha di stare nella vita nei processi della vita e di trasformare anche quei contesti in cui sono inserite le persone e anche i gruppi di persone in più gli educatori ed educatrici sociopedagogici sono in grado di realizzare di elaborare di pensare di realizzare e valutare percorsi e processi educativi coerenti coerenti con che cosa con chi abbiamo di fronte con l'ambiente in cui queste persone stanno e vivono con la dimensione delle differenti storie personali familiari e collettive delle persone con cui l'educatore e l'educatrice lavorerà quindi è una dimensione professionale come molte altre sono state spiegate oggi complessa articolata per certi versi che ci chiede sempre di continuare a trasformare e a trasformarci in quanto educatori non è possibile educare se non si è continuamente educati che cosa si impara quali sono le aree disciplinari io non vi dirò tutti gli insegnamenti perché li potete trovare cliccando sul sito della nostra università quindi dipartimento di scienza umana laurea in scienza dell'educazione troverete degli insegnamenti di queste aree pedagogica quindi l'area pedagogica tutte le pedagogie è la storia della pedagogia fondamenti di pedagogia la metodologia insegnamenti di area sociologica antropologica psicologica filosofica e tecnologie educative della documentazione cioè l'importanza di dare il nome alle cose ai pensieri alle azioni che gli educatori fanno quotidianamente e anche diariamente medica il corso è un corso che chiede anche una formazione profonda della personalità quindi ci sono due momenti molto importanti che sono obbligatori la presenza è obbligatoria sia per il tirocinio professionale che è di 300 ore che inizia normalmente nel secondo anno cioè dopo aver acquisito 60 crediti formativi e i laboratori che ancora per l'anno prossimo cominceranno a partire dal secondo anno quindi la presenza al corso di studi nel primo anno secondo anno e terzo anno è davvero consigliata ma non è obbligatoria obbligatorio è invece la partecipazione ai laboratori e la partecipazione ovviamente al tirocinio professionalizzante il tirocinio è accompagnato dai tutor aziendali cioè quindi dagli educatori o dai pedagogisti che già lavorano nei futuri luoghi in cui voi svolgerete la prima pratica professionale quindi sarete accompagnati da chi già fa questo lavoro e anche da un tutor accademico che vi orienterà quindi su cosa che quali sono gli obiettivi di apprendimento vostri specifici sul vostro tirocinio personale professionalizzante e dall'altra parte il tutor accademico che vi aiuterà vi accompagnerà nel comprendere come stare nella relazione con le persone con cui voi vorrete dare il vostro il vostro lavoro la vostra opera il tirocinio è suddiviso in diretto quindi dentro nelle istituzioni e indiretto cioè come ci prepariamo per entrare nelle istituzioni quando mettiamo il piede in una istituzione a partire dall'istituzione universitaria occorre capire bene qual è la terra su cui poggiano i piedi giusto altrimenti possiamo anche inciampare cadere perciò il percorso di formazione al tirocinio chiamato anche tirocinio indiretto anche questo è obbligatorio il tirocinio come molti dei miei colleghi hanno già detto prima mette all'obiettivo anche di mostrare la sinergia e l'indivisibilità tra la teoria e la pratica non sono scisse sono intrecciate fortemente tant'è vero che molte persone molte studentesse studenti accompagnati dalle figure professionali dentro nelle istituzioni sono anche in grado di mettere quella piccola trasformazione in più della teoria che noi insegniamo perciò i docenti dell'università e in particolare proprio nel percorso in scienza dell'educazione prestano un'attenzione profonda a quanto può arrivare e giungere da quei saperi che vengono chiamati i saperi dell'esperienza saperi situati nei luoghi del vostro tirocinio e che ci auguriamo sia del vostro futuro lavoro in generale il primo anno è comune a questi due indirizzi che verranno poi approfonditi verranno in un certo senso maturati anche all'interno dei differenti insegnamenti a partire dal secondo e dal terzo anno quindi il primo anno vale per tutti anche se nel primo anno già vi chiediamo di scegliere quali possono essere quale può essere il vostro indirizzo gli indirizzi sono due servizi educativi per l'infanzia 03 e servizi educativi di comunità quindi 03 vuol dire nei nidi ma non solo e servizi educativi di comunità che cosa significa entreremo adesso proprio un pochino più nello specifico gli studenti che sceglieranno i servizi educativi di comunità gli ambiti educativi sono gli ambiti educativi di lavoro quindi prima di tirocino sono tantissimi quindi vanno dalle le aree per i bambini per le famiglie per l'educativa domiciliare per i centri diurni di aggregazione giovanile con gli adolescenti piuttosto che i centri sociali per le persone attive anziane ma attive nel territorio piuttosto che le residenze sanitarie assistenziali dove c'è invece una utenza di persone che hanno sono istituzioni totali dove ci sono le persone molto anziane spesso all'interno diciamo di un quadro che viene chiamato non autosufficiente quindi persone non autosufficienti che non possono vivere da sole al domicilio eccetera ma ci sono anche realtà di educatori territoriali cioè che lavorano per trovare delle sinergie educative tra la famiglia il centro di aggregazione giovanile il servizio sociale di base la scuola primaria piuttosto che la scuola dell'infanzia quindi educatori che hanno che gli educatori di comunità che maturano un'esperienza di connessione tra le differenti realtà educative territoriali eccetera educatori anche che svolgono educatori di comunità che svolgono per esempio un lavoro considerato ai margini della società dove c'è un disagio riconosciuto quindi dove ci sono anche delle chiamiamole così assunzioni da parte di alcuni soggetti di comunità come dire di comunità diurne o comunità residenziali in cui le donne i bambini i giovani fino ai 18 anni stanno per poter riprendersi in mano la propria vita ecco questi sono i vari servizi di comunità ve l'ho appena detto questo lo trovate ecco sì ho dimenticato che nei servizi educativi di comunità c'è anche un ampio spazio per la dimensione di agio e sono la cultura i musei le biblioteche le ludoteche c'è anche tutta questa parte che sostiene la dimensione dell'agio di una piccola o grande società mi pare di così volutamente queste immagini sono sfocate quindi gli educatori 03 lavorano nei nidi in questi servizi ed è obbligatorio per chi vorrà svolgere l'attività di educatrice o educatore dei nidi svolgere un tirocinio assolutamente all'interno di un nido di infanzia altrimenti non potrà svolgere questa questa professione negli anziani qui vedete è un momento di pet therapy quindi una terapia ecco con gli animali all'interno degli istituzioni totali per le persone molto anziane e indebilitate una dimensione in biblioteca con gli adolescenti e anche un altro aspetto molto importante dove gli educatori ed educatrici possono essere come dire trovare il proprio lavoro e anche nell'ambito della disabilità una cosa importante è che l'azione educativa è un'azione politica nel senso alto e cioè è un bene comune è un bene per i singoli ma è anche un bene comune che trasforma una comunità questo è un po' l'orientamento del lavoro delle azioni educative come si accede a questo corso triennale viene anche qui attraverso un test di ammissione il numero massimo è di 300 persone il test è online come gli altri precedenti e tutte le informazioni per il nostro come dire come iscriversi posti disponibili quali sono in specifico gli insegnamenti dell'area di comunità piuttosto che dell'area dell'infanzia li trovate sempre sul nostro sito mi sembra di aver detto tutto no mi sono dimenticata una cosa nelle regioni Veneto Lombardia e Trentino c'è una richiesta altissima di educatori e di educatrici c'è una domanda molto alta e c'è un'offerta molto bassa il 98,7% degli educatori e delle educatrici che concludono la laurea all'interno del primo anno dopo la laurea trovano lavoro quindi c'è una domanda molto alta di questa professione sì vi dico un altro dato visto che sono referente il 96,9% quindi il 97% l'alma laurea organizza tutta una serie di dati raccoglie tutta una serie di dati per dirci come va il nostro corso è il nostro come in tutta Italia quindi non solo l'Università di Verona e si dice che questo corso ha un'alta percentuale di soddisfazione quindi ecco mi pare di avervi detto tutto c'è una domanda? no ah sì chiudiamo ah sì mi sono dimenticata di dire che anche in questo corso ci sono i tutor del corso di studi anche nel corso presentato prima in tutti cosa fanno questi tutor? fanno un'azione molto interessante per in particolare per le matricole e nella L19 cioè quindi Scienze dell'Educazione quest'anno abbiamo anche un pedagogista che è stato come dire consulente messo a disposizione solo per le matricole che orienta sui metodi di studio sulla programmazione del proprio percorso del primo anno di università e è presente in università e anche offre un accompagnamento anche per gli studenti adesso non riguarda voi ma anche per gli studenti non frequentanti o che quindi lavorano o che sono molto distanti quindi anche per online c'è questa attraverso Zoom attraverso questi sistemi online vi può offrire un orientamento prego la domanda buongiorno la mia domanda è io non ho ben capito se decido di fare scienze dell'Educazione e poi passare a scienze della formazione se posso insegnare alla scuola primaria comunque se decide di passare a scienze della formazione primaria penso potrà insegnare solo a conclusione del quinto anno giusto? no? sì accendilo diciamo che molte studentesse iniziano a insegnare anche prima del termine del percorso perché c'è carenza perché c'è una grande carenza di insegnanti per cui gli istituti e anche le scuole paritarie continuano a chiederci quali sono le studentesse disponibili ad assumere incarichi però posso dire che solamente al termine del percorso di scienze della formazione primaria voi venite senz'altro venite subito chiamate perché tutte sono state chiamate quelle che si sono laureate a svolgere il ruolo di insegnante o di scuola primaria o di scuola dell'infanzia per avere il ruolo da determinato a indeterminato occorre partecipare a un concorso ecco c'è una domanda lì buongiorno io volevo chiedere nel corso scienze dell'educazione come insegnamenti c'è una lingua straniera è obbligatorio l'inglese oppure si può scegliere fra varie lingue non è obbligatorio l'inglese si può scegliere tra una delle lingue europee quindi per esempio spagnolo insomma una delle lingue europee ecco qualche altra domanda la sopra forse una domanda un po' più tecnica però se io per l'università faccio sia il test per formazione primaria sia scienze dell'educazione è possibile o posso fare solo un test d'ingresso mi scusi sono stata disattenta perché stiamo cercando un nostro collega non vediamo ancora quindi allora mi può ripetere la domanda grazie se io volessi fare sia il test d'ingresso per formazione primaria sia scienze dell'educazione è possibile io penso proprio di sì 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 per entrambe ok sono due cose totalmente diverse poi lei deciderà ok quindi anche se vengo presa entrambe per pura fortuna posso scegliere io se andare in una o nell'altra in caso no quando lei comincerà mettiamo che lei sia brava bravissima entra sia un test nel test di scienze della formazione primaria sia in scienze dell'educazione poi dopo poi lei sceglierà quale percorso universitario frequentare c'è una domanda lì e se non si viene presi al test per scienze della formazione ha senso fare un anno di scienze dell'educazione per poi passare a formazione sì se non si viene presi al test di scienze della formazione ha senso fare un anno di scienze dell'educazione per poi passare all'altro sì o no non lo so forse ci può aiutare la collega accendi accendi lei l'anno dopo deve rifare il test d'accesso e superato il test d'accesso può entrare scienze della formazione primaria può chiedere riconoscimento crediti degli esami che ha sostenuto a scienze dell'educazione ma se portano la stessa denominazione sono degli esami che sono affini al corso di scienze della formazione primaria e non è detto che vengano validati completamente perché manca la parte della didattica un'altra domanda qui con la laurea in scienze della formazione primaria posso anche insegnare inglese cioè il discorso delle lingue straniere sì puoi insegnare inglese uscite con un B2 e la maggior parte delle studentesse che terminano il percorso vengono chiamate soprattutto per insegnare no vengono chiamate per compiere le supplenze però l'inglese siamo certi che ce l'avete nel vostro insegnamento sì sì grazie qualcun'altra qualcun'altro allora allora se non ci sono altre sì c'è una domanda la sopra grazie sì grazie volevo chiedere la differenza tra scienze dell'educazione e scienze psicologiche della dell'educazione che ho visto che ci sono questi due corsi non è scienze psicologiche dell'educazione semmai c'è un insegnamento che si intitola psicologia dell'educazione che però è all'interno della laurea in scienze psicologiche per la formazione quindi come ha così delineato forse lei non c'era all'inizio è per questo che c'è questa domanda la docente di riferimento che è la Daniela Raccanello quella è un ambito psicologico una laurea in psicologia tre anni più due la nostra il nostro corso di studi L19 invece è una laurea in scienze dell'educazione quindi sono due percorsi molto differenti non so se le ho risposto ecco diciamo una parte la parte psicologica qui non c'è la collega ma la parte psicologica lavora più su una dimensione di scienze della scienze psicologiche nella formazione delle organizzazioni all'interno delle organizzazioni scienze dell'educazione ha un percorso che di base è pedagogico poi ci sono anche insegnamenti di psicologia per esempio psicologia dell'età evolutiva psicologia sociale eccetera però non è una laurea in psicologia qui c'è un'altra domanda e per quanto riguarda il tol che sarà sempre a settembre o dovrebbe essere sempre a settembre non abbiamo informazioni in più forse l'ufficio orientamento ne ha qualcuna prima di me penso in realtà che si possano iniziare a sostenere da prima di settembre quindi da maggio giugno anche perché dovrebbero essere cinque tentativi massimi per quello che riguarda il il talk ecco e verrà tenuto conto come diceva l'altro docente del punteggio più alto dovrebbe essere appunto da aprile maggio comunque consigliamo sempre di tenere monitorato il sito Cisia dal momento che l'Ateneo di Verona si appoggia a questa piattaforma sì c'è un'altra domanda io volevo chiedere dei 300 posti disponibili sono qui a Verona sì sono 300 posti disponibili qui a Verona un'altra domanda è previsto un livello linguistico di base anche per scienze della formazione primaria per esempio di inglese non so sì è previsto il B1 ok di inglese o di inglese e solo inglese grazie per quanto riguarda le lezioni sono obbligatorie o per quanto riguarda le lezioni di scienza della formazione primaria è dai 0-3 anni allora 0-3 è anche l'altro filone la frequenza alle lezioni non è obbligatoria l'unico aspetto diciamo di frequenza obbligatoria è relativo ai laboratori che saranno dal secondo anno in poi e il tirocinio è obbligatorio che sono 300 ore di tirocinio e i laboratori sono diciamo le ore di laboratorio sono legate sono conseguenti a a differenti insegnamenti ecco quindi non si può sostenere l'esame di di quel docente di quell'insegnamento se non si è frequentato il laboratorio in presenza mentre le ore di docenza possono essere anche preparate a casa cioè da non frequentante ovviamente noi consigliamo potendo la frequenza perché molti degli insegnamenti sono sì ovviamente frontali ma anche di sollecitazione di pensiero di interazione anche con il docente o con i compagni con i colleghi insomma studenti studentesse io ho già fatto cioè ho fatto una ricerca e ho visto che le lezioni quest'anno sono tre volte alla settimana se non erro le lezioni sì di educazione ecco ma sono vicine cioè rimangono vicine o possono cambiare l'anno prossimo orientativamente abbiamo risposto a una domanda dei tanti studenti che sono fuori vengono da fuori Verona dove ci chiedevano di accorpare il più possibile in tre giorni della settimana gli insegnamenti dovremmo continuare a mantenere quel ritmo ecco anche se è un ritmo abbastanza serrato direi però questo potrebbe favorire diciamo gli spostamenti ecco se io avessi una certificazione B2 in inglese ha qualche validità nel corso dell'anno cioè degli anni universitari oppure no come esame se a lei avesse adesso le rispondo poi magari qualcun altro mi può aiutare a rispondere ma una certificazione di B2 valida ovviamente lei dovrebbe essere riconosciuta dal centro linguistico di Ateneo quindi consigliamo qui lo dico a tutti coloro che si iscrivono il primo anno di di fare di sostenere l'esame di lingua perché è importantissimo ecco questo esame di lingua di non lasciarlo assolutamente nel secondo anno ma di di far valere da una parte le certificazioni ovviamente se sono valide se le avete conseguite presso un centro riconosciuto e poi anche di sostenere l'esame di lingua ma se si ha già prima perché è vero quella Cambridge cioè vale per esempio che non si fanno determinati esami oppure valgono i punti cioè non so come funziona se si ha già prima non credo che ci sia un punteggio c'è il riconoscimento dell'esame per la nostra laurea nella graduatoria del test d'accesso avere una certificazione in lingua vi dà la possibilità di di avere di aumentare il vostro punteggio di tre ad esempio B1 sono B2 sono tre tre punti ok C1 dovrebbero essere cinque però quindi conviene presentarlo per la loro laurea per scienza della formazione primaria però dipende se è ancora valido perché ha una durata ha una certa durata se lei l'ha conseguito sei anni fa penso non sia più valido c'è ancora una domanda la forse posso precisare perché riguarda anche il nostro corso di laurea che bisogna fare la differenza tra la certificazione di lingua e gli insegnamenti di lingua sono due cose diverse quindi per esempio nel corso di laurea studi strategici è richiesto il B1 di inglese che è la certificazione e poi c'è anche l'insegnamento di lingua inglese che sono due cose separate scusi la mia domanda era ho visto che al secondo anno bisogna scegliere tra infanzia oppure comunità se io dovessi scegliere infanzia poi a fine studio posso lavorare anche in comunità oppure solo in infanzia e viceversa preciso che l'orientamento del percorso di studi vi viene vi viene chiesto sin dal primo anno entro il primo anno quindi all'escrizione del secondo dovete dare il sì oppure modificare questo è una precisione se lei dovesse scegliere infanzia e poi decidere di sì può o certamente c'è un'altra domanda lassù sì avevo un'altra domanda volevo chiedere per quanto riguarda se per scienze dell'educazione appunto quindi è obbligatoria una certificazione in inglese appunto B1 o B2 sì dove più che certificazione dovete sostenere un esame di lingua come che arriva bene il collega e l'invito normalmente quello di preparare questo esame nel primo anno ecco perché magari anche arrivate dalla scuola superiore con così con una lingua che già frequentate ecco a scuola possiamo c'è ancora una allora bisognerà alzare la voce e noi riprenderemo le domande così da casa cioè da casa in realtà non c'è nessuno collegato ma poi nell'ascolto della registrazione possono sentire prego no però io non arrivo con questo no no ah ecco allora come le dicevo non ho non abbiamo delle statistiche perché è un corso di laurea nuovo quindi non posso dire che tasso di occupazione c'è per questo corso di studi strategici potete vedere se volete fare una comparazione i corsi di laurea in scienze politiche in generale soprattutto al nord perché poi ci sono situazioni diverse in Italia che tipo di tasso di occupazionale c'è come dicevo prima sono figure generalmente per quanto riguarda la laurea triennale che lavorano in contesti pubblici o privati in organizzazioni tipo associazioni o ONG organizzazioni non governamentali o istituzioni che lavorano con tecnici e che hanno un approccio più analitico più ampio quindi non sono figure tecniche ma sono figure che lavorano in contesti tecnici per quanto riguarda la laurea in studi strategici piuttosto che quella in scienze politiche in generale quali saranno esattamente i tassi di occupazione speriamo che saranno molto elevati però non glielo posso dire ancora allora sì la domanda è perché questa laurea rispetto alla laurea magistrale che è nel dipartimento di scienze giuridiche non è anche la laurea triennale non sta nel dipartimento di scienze giuridiche ma in quello di scienze umane come dicevo nella mia premessa all'inizio il a Verona è nato prima il corso di laurea magistrale in scienze giuridiche e viene da un percorso fatto all'interno del dipartimento di scienze giuridiche dal colleghe colleghi giuristi quindi ha un diciamo un impronta un pochino più quantomeno all'origine quando è stato creato più giuridica il percorso di laurea triennale in studi strategici nasce invece proprio all'interno del dipartimento di scienze umane da un progetto elaborato con la collaborazione del dipartimento di scienze giuridiche ma il cui nucleo centrale è diciamo così pensato da colleghe e colleghi di studi politici e sociali quindi scienza politica sociologia filosofia politica ed economia quindi ha un'impronta più umanistica e meno giuridica per quanto come avete visto ci siano ancora ovviamente anche degli insegnamenti di diritto quindi è un percorso diciamo che si completa e che abbiamo incardinato nel dipartimento di scienze umane perché nasce come approccio e come progetto all'interno del dipartimento di scienze umane bene grazie se siete d'accordo potremmo passare ora alla presentazione dell'ultimo corso di studi c'è ancora una domanda? ultima ultima domanda prego la domanda è se fosse se sia possibile sostenere l'esame del test d'ingresso al quarto anno delle scuole superiori io questo non lo so penso di sì non lo so non lo so non lo so io non credo ma come come mai mi verrebbe da chiederle come mai ecco questa domanda perché comunque il test il test d'ingresso se lei lo sostiene se lei dovesse anche sostenere il test d'ingresso al quarto anno quindi poi dopo dovrà ancora frequentare il quinto anno giusto non può iscriversi all'università perché è richiesto il diploma di scuola media superiore no esatto cioè come dire non c'è un pezzo di carta che le possa dare l'effettiva frequenza e iscrizione all'università direi di sì ok allora grazie davvero di tutte queste domande che ci hanno così aiutato ad illustrare meglio i nostri corsi di studio io passo ora la parola al professor Federico Reoni che ci illustra la laurea triennale in filosofia vuoi partire da lì ok grazie ecco grazie si sente funziona fa poco ecco così va meglio ok allora buongiorno a tutti vi presento il corso di laurea triennale in filosofia come è fatto diciamo che è costruito intorno a dei blocchi di esami degli insiemi di insegnamenti e poi di esami di tipo abbastanza differente potrei dire così che un primo blocco è l'insieme degli esami di storia della filosofia che forse è la cosa che è più nota e vicina all'esperienza di chi come voi sta studiando in una scuola superiore dove c'è filosofia di solito la si studia tendenzialmente come una storia della filosofia ecco anche qui c'è della storia della filosofia più come dire ampia e approfondita e cioè suddivisa in segmenti storici dunque c'è una storia della filosofia antica medievale moderna contemporanea e questi esami danno una formazione complessiva e di base potrei dire così il che non toglie evidentemente che si possa anche approfondire questo aspetto in modo meraviglioso e la storia della filosofia può essere di per sé un approdo ci sono però anche degli esami di altro tipo che diciamo aprono la finestra lo sguardo su un altro aspetto della filosofia che è un po' forse meno frequentato nelle scuole superiori e invece qui è particolarmente importante messo al centro dell'attenzione cioè io direi così la filosofia che si fa oggi non la storia della filosofia in quanto filosofia già fatta da un insieme di autori di epoche di contesti eccetera ma la filosofia che si fa oggi è spesso la filosofia che viene fatta come dire con grandi o piccoli risultati ma insomma da ciascuno di noi che lavoriamo qui dentro e dai nostri colleghi più o meno importanti che lavorano altrove allora c'è un lato della filosofia che è il lato vivo e attuale della ricerca filosofica che si articola anche in questo caso in un insieme di insegnamenti e quindi di esami questi insegnamenti e questi esami si chiamano per esempio filosofia teoretica estetica etica oppure filosofia morale filosofia della scienza ecco questi sono dei campi di lavoro attuale filosofia teoretica significa grosso modo quali sono i concetti fondamentali della filosofia che la orientano quali sono i problemi fondamentali della filosofia che la orientano estetica evidentemente è un modo di declinare la filosofia in rapporto all'esperienza artistica filosofia morale evidentemente ha un altro tipo di domanda filosofia della scienza logica epistemologia invece un altro ambito che riguarda appunto l'impresa scientifica ecco l'altra cosa che direi oltre a sottolineare che gli insegnamenti sono grossomodo questi due grandi ceppi articolati intorno a questi due grandi ceppi gli insegnamenti sono poi integrati da degli insegnamenti che non sono filosofici ma che stanno intorno a questi insegnamenti filosofici che li integrano con delle possibilità di opzioni cioè non sono più degli insegnamenti diciamo obbligatori e fondamentali ma sono opzionali sono di natura storica ma nel senso della storia 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 greca romana moderna eccetera sono di lingua di lingua o lingue contemporanee e vive oppure di lingue classiche lingua greca lingua latina e poi ci sono diciamo degli insegnamenti che appartengono alle scienze umane cioè di ambito psicologico di ambito pedagogico eccetera cioè ci sono due nuclei fondamentali che dicevo storia della filosofia e teoretica morale estetica filosofia della scienza filosofia politica anche e poi ci sono questi altri insegnamenti più opzionali ma che possono da un lato arricchire il curriculum e dall'altro anche orientarlo per esempio verso l'insegnamento cioè verso una laurea magistrale in prospettiva verso l'insegnamento ecco forse una cosa che si potrebbe aggiungere a questo punto è qual è la natura specifica però del corso di laurea di filosofia che abbiamo qui a Verona perché quel che vi ho detto si applica tutto sommato a ogni corso di filosofia in Italia forse non solo in Italia qui a Verona abbiamo provato nel corso del tempo e degli anni a dare un'impronta però particolare al nostro corso di filosofia in generale al gruppo dei filosofi al loro modo di lavorare qui dentro al nostro contesto al nostro dipartimento come si dice nelle università e io direi ci sono alcune impronte alcune fisionomie particolari che vale la pena di sottolineare una prima impronta è un'attenzione molto marcata alla filosofia contemporanea dunque sì la storia della filosofia che cerchiamo di fare al meglio ma soprattutto la filosofia contemporanea soprattutto la filosofia come tentativo di lettura del contemporaneo del mondo contemporaneo poi un altro aspetto significativo mi sembra è un'attenzione al rapporto tra la filosofia e la psicoanalisi questo è un altro ambito su cui qui a Verona abbiamo investito con molta attenzione e questo porta a un esame non tanto di un ambito definito delimitato mettere insieme queste due discipline la filosofia e la psicoanalisi significa avere un'apertura molto potente molto creativa su tutto un insieme di ambiti che hanno a che fare con l'estetica l'etica la politica eccetera guardate sotto il profilo della grande questione novecentesca e poi anche contemporanea del che cos'è il soggetto che cos'è l'inconscio che cosa il soggetto non ha in potere suo diciamo dove dei punti di padronanza del soggetto singolare o collettivo dove questa padronanza diciamo cede si meticcia si ibrida con altre esperienze e poi l'altro aspetto che qui è particolarmente frequentato è quello della filosofia politica e quello della di nuovo una declinazione diciamo della filosofia politica del rapporto tra politica e sessualità e anche questo direi che non è solo o non è tanto un ambito specifico e delimitato ma è una chiave di lettura generale nel senso che dopo che hai ragionato su che rapporto c'è tra politica e sessualità hai in mano una chiave che non è tanto e soltanto specifica ma è molto ampia cioè ti consente di leggere una quantità di fenomeni contemporanei di mutamenti politici di trasformazioni di natura sociale e così via tutto questo si traduce anche in un'attività di ricerca che è incanalata in queste direzioni il che significa ci sono dei centri di ricerca nel nostro dipartimento che sono legati a questi grandi temi che vi dicevo filosofia e psicoanalisi un altro centro di ricerca si chiama politesi di cui abbiamo un esponente importante nel mio collega Massimo Prearo un altro laboratorio di filosofia politica è il centro Anna Arendt Anna Arendt come forse sapete è una delle grandi figure del pensiero politico del novecento e vi dico questo per dire che c'è un rapporto che curiamo con attenzione tra la ricerca e il lavoro che facciamo a livello propriamente filosofico e la didattica cioè il modo in cui tutto questo poi si riversa nell'insegnamento facendo dell'insegnamento non solo la trasmissione diciamo così di un patrimonio che è qualcosa che cerchiamo di fare evidentemente che è il fondamento di ogni altra cosa ma anche la trasmissione di quel che di vivo di attuale e anche di problematico di ipotetico di congetturale c'è nel lavoro filosofico nel lavoro filosofico di oggi ecco questo tratto direi contemporaneo contemporaneista è forse il marchio di fabbrica della filosofia che facciamo e spero del modo in cui la insegniamo direi questo e poi vi ascolto se avete domande curiosità considerazioni di vario tipo allora io non sono sicuro di aver sentito esattamente però mi sembra che tu chieda qualcosa sul funzionamento degli esami allora c'è un ufficio che si occupa di questo nel supportare la didattica dunque noi docenti e poi tutti gli aspetti del funzionamento del dei vari corsi di studio in realtà non solo di filosofia evidentemente ma di tutto quello che viene insegnato dentro il nostro Ateneo naturalmente dentro il nostro dipartimento c'è un ufficio che si occupa di supportare studenti e studentesse che abbiano questa esigenza e di fare da raccordo tra le studentesse gli studenti e i docenti segnalando la questione mettendo a disposizione un insieme di strumenti come posso dire di accorgimenti a volte anche che vanno in questa direzione prego funziona adesso funziona approfittiamone buonasera io filosofia non l'ho mai studiata sto frequentando un istituto tecnico e mi chiedevo se ci fosse un modo per capire se questa materia mi possa piacere o meno magari leggendo qualche testo perché alla fine io di filosofia non so niente però leggendo le materie mi interessava come corso ma io direi la cosa più consigliabile da fare è andare nei luoghi in cui si fa filosofia e provare ad ascoltare provare a venire in università ad ascoltare una lezione una volta certo le lezioni in università sono tutte libere ad accesso libero al di là dell'iscrizione l'iscrizione dà diritto a tutto quello che viene dopo cioè fare gli esami ottenere un titolo andare a ricevimento dove un docente vi segue nel fare una tesi di laurea eccetera eccetera ma le lezioni hanno carattere pubblico quindi se andate a scuola la mattina venite al pomeriggio è pieno di lezioni fino alle 7 di sera venite qua ascoltate vedete se vi incuriosisce se vi piace se vi fa scappare via a quel punto avete comunque imparato qualcosa che c'è qualcosa da cui scappare via assolutamente prego ma forse se usiamo il microfono è meglio perché così la registrazione viene un po' più completa se riesce ad avvicinarsi al microfono professore che non vorrei che poi non si sentisse l'audio grazie mi scusi e buonasera io parlando con persone che stanno facendo hanno fatto filosofia mi è stato detto che magari la differenza nel scegliere la facoltà di filosofia verona piuttosto che padova o altre città d'italia sa nello sviluppo del pensiero che può essere magari settoriale cioè non so verona ha un certo orientamento piuttosto che padova e volevo chiederle cosa pensa in merito se è vero o se volevo avere la sua opinione sì abbastanza vero che i luoghi hanno anche delle fisionomie delle tradizioni culturali specifiche per cui è vero che a padova si fa filosofia in un certo modo il corso di studi e gli insegnamenti eccetera hanno un certo orientamento prevalente io direi prevalentemente storico cioè orientato alla storia della filosofia e se dovessi andare nel dettaglio direi prevalentemente sono forti accreditati interessanti creativi nello studiare la storia della filosofia antica e la storia della filosofia grosso modo dell'ottocento dell'idealismo tedesco cioè benissimo Platone Aristotele benissimo Hegel Kant Hegel quella stagione lì noi abbiamo puntato in un'altra direzione in parte perché siamo noi cioè ognuno di noi porta il suo lavoro le sue curiosità eccetera in parte per progetto collettivo in cui ci siamo riconosciuti noi abbiamo puntato come dicevo prima su qualcosa di molto più contemporaneo direi così e si può anche scendere di più nel dettaglio cioè contemporaneo poi significa per molti di noi quantomeno un orientamento alla filosofia o francese o diciamo così anglo-americana c'è un po' meno filosofia tedesca da noi anche se c'è in realtà se si scopre che interessa c'è anche questo ed è fatto molto bene da alcuni colleghi che ho in mente però quando dico filosofia e psicoanalisi oppure filosofia politica e sessualità ho in mente una serie di autori che noi studiamo che abbiamo come punti di riferimento eccetera e sono tutti viventi o comunque sono tutti appartenenti al novecento forse alla seconda metà del novecento e ai decenni che stiamo vivendo adesso quindi questa è una marca abbastanza evidente e caratteristica sia del lavoro di ricerca che si fa qui dentro sia della trasmissione di quello che raccontiamo a lezione facciamo leggere per gli esami eccetera così come in ogni città d'Italia si potrebbe dire dove c'è un corso di filosofia c'è una fisionomia specifica che si potrebbe descrivere direi che Verona è uno dei posti come tutti direi riconoscono in Italia dei posti più orientati alla filosofia contemporanea o politica o etica direi così buongiorno poi c'è un buongiorno volevo chiederle io personalmente sto frequentando un istituto tecnico quindi mi mancano particolarmente nozioni di latino e greco vi è la necessità per affrontare le stelle percorso di studi di conoscere queste due lingue antiche e dopo avrei anche un ulteriore domanda ovvero sul piano concorrenziale del mercato del lavoro la laurea in filosofia verso quale professione potrebbe orientare grazie mille grazie a te allora ci sono due questioni una più ampia che avrei fatto bene ad affrontare già prima quando la tua compagna diciamo poneva una domanda venendo da studi in un istituto tecnico la cosa da dire subito è che noi partiamo dalle basi partiamo senza presupporre nulla anche nel caso che uno abbia già studiato in un liceo della filosofia ma comunque si parte in modo molto didattico il caso di dirlo dall'inizio della storia della filosofia e dall'inizio concettuale di ogni concetto problema questione eccetera dunque nulla è presupposto nulla va già saputo tutto può essere incontrato qui credo in modo sufficientemente chiaro da crescere poi di gradino in gradino verso cose più complicate eccetera l'altra cosa che tu chiedi è più specifica e ti direi che qui dentro se c'è l'interesse il desiderio la curiosità si può studiare il greco e il latino anche senza che questo sia già stato incontrato negli anni precedenti perché ci sono dei laboratori per esempio ho in mente quello di greco che trasmettono dei rudimenti quantomeno iniziali e poi si potrà andare avanti questo però ad approfondire questo però non è indispensabile cioè non è una condizione necessaria è necessaria solo se qualcuno volesse fare degli studi specifici che vanno ad approfondire la filosofia antica allora lì sì certamente non si può andare a fare una tesi di laurea in filosofia antica senza conoscere o il greco o il latino visto che poi si va a lavorare su un autore o greco latino ma si può benissimo lavorare sulla direzione della filosofia moderna o contemporanea o delle questioni come prima dicevo non tanto storiche ma appunto di contemporaneistica allora lì il legame con le lingue antiche è meno è meno necessario non è indispensabile credo di aver risposto ah la questione professionale avevo l'impressione che ci fosse dell'altro che lo stavo ricordando la questione professionale direi che ci sono due o tre grandi ambiti di destinazione di chi si laurea in filosofia direi nella triennale ma soprattutto poi nella magistrale cioè la laurea triennale soprattutto prepara orienta una magistrale la magistrale è ciò che immette effettivamente nel mercato del lavoro che è un mercato complicato in generale e anche per chi si laurea in filosofia che però ha degli sbocchi possibili uno è quello dell'insegnamento e del più classico l'insegnamento intendo nella scuola nelle scuole superiori che va costruito tenendo d'occhio soprattutto nella magistrale alcuni insegnamenti che vanno acquisiti anche non filosofici ma che consentono di avere un curriculum adeguato a insegnare sostanzialmente storia e filosofia che è l'accoppiata classica oppure filosofia e scienze umane in altri contesti scolastici eccetera questa è la destinazione più classica e anche che soddisfa i numeri maggiori no è anche piuttosto intasata ma insomma con un percorso un po' lungo e complesso di solito conduce in porto insomma conduce a un luogo di insegnamento e quindi a un posto di lavoro gli altri due ambiti che vi segnalo sono meno classici anche se sono acquisiti in realtà da tempo sono l'editoria e il lavoro nelle aziende nelle funzioni di formazione di coordinamento di organizzazione nelle funzioni manageriali ecco in tutti e due questi ambiti che sono molto differenti però i laureati in filosofia trovano trovano collocazione l'ambito editoriale è particolarmente affine diciamo a quello degli studi universitari umanistici direi così in generale lavorare nell'editoria significa lavorare in un luogo dove si sceglie che libri pubblicare si decide quale libro vale la pena di pubblicare in Italia e quali no e significa tradurre poi dunque è la funzione o dell'editor tecnicamente che è la funzione che sceglie che cosa pubblicare che cosa diffondere perché che cosa è in sintonia col nostro tempo oppure no che cosa è uno strumento utile penso soprattutto alla saggistica perché chi viene da filosofia o in generale dalle scienze umane da studi umanistici e lavora nell'editoria di solito sta nella saggistica non sta nella letteratura non sta in altri ambiti che cosa è uno strumento di lettura del contemporaneo utile faremo questi libri anziché altri questa è la funzione dell'editor e poi c'è la funzione del traduttore di nuovo penso soprattutto alla saggistica perché si arriva a tradurre saggistica soprattutto venendo da studi di scienze umane o di filosofia altra cosa è tradurre la letteratura la poesia eccetera e tutti e due questi ambiti sono ambiti stimolanti interessanti che hanno un rapporto molto vivo anche con la società con la vita della società della politica eccetera l'ambito aziendale diciamo l'ambito delle imprese l'ambito anche pubblico perché c'è del management della formazione eccetera evidentemente anche nelle istituzioni pubbliche è l'altra destinazione possibile non sono grandi numeri evidentemente ma sono dei numeri significativi molti filosofi laureati in filosofia trovano nell'ambito della formazione della progettazione della formazione e anche nelle funzioni di management delle aziende meglio se un po' grandi meglio se molto grandi perché hanno funzioni diciamo un po' più specializzate e quindi hanno più spazio per una figura così particolare come quella del filosofo nell'azienda però ce ne sono e devo dire che il nostro corso di laurea soprattutto negli ultimi due o tre anni ha avviato un confronto molto vivo e molto attivo con le cosiddette parti sociali cioè con il mondo del lavoro poi sostanzialmente confrontandosi con gli editori che abbiamo invitato a degli incontri a uno scambio a cui abbiamo chiesto anche consiglio su come mettere a punto il corso di laurea aggiungendo cose che possono meglio orientare ad acquisire quel tipo di competenze che poi saranno utili nella direzione per esempio dell'editoria per esempio dunque abbiamo invitato degli editori abbiamo invitato dei manager di aziende abbiamo invitato gente che lavora nelle fondazioni di cultura per esempio la fondazione Feltrinelli e quindi ci siamo confrontati con queste realtà abbiamo stabilito un contatto con loro non solo a livello di progettazione o di messa a punto quantomeno del corso di laurea ma anche abbiamo aperto una via di scambio e stiamo pensando a dei tirocini che potrebbero essere svolti presso queste istituzioni eccetera io stesso vengo dall'editoria ho lavorato nella saggistica della casa editrice Feltrinelli e poi la fondazione Feltrinelli per molti anni quindi conosco abbastanza bene sia le difficoltà di quello sbocco sia il lato divertente di quello sbocco sul sito venivano presentati anche nei corsi alcuni corsi ed esami riguardanti proprio l'ambito dell'insegnamento saprete dire come si articolano più o meno questi effettivamente questi corsi ed esami che ci sono che riguardano propriamente l'ambito dell'insegnamento all'interno dei vari anni sì questo è un punto che interessa di più la laurea magistrale di filosofia nel senso che è lì soprattutto che si inizia a orientare di più il curriculum di studi all'insegnamento oppure ad altri tipi di esperienze professionali di sbocchi professionali però sì certamente quello che si fa nella magistrale nel senso di acquisire certi cfu che sono certi crediti che sono necessari nella direzione della storia o di altre cose può essere già preparato nel corso della triennale sono soprattutto esami o di storia o di scienze umane di storia storia come dicevo prima oppure di scienze umane nel senso che se uno andasse a insegnare filosofia e scienze umane non dicevo di scienze umane per esempio dovrebbe acquisire dei crediti in quella direzione dunque iniziare già nella triennale ad avere una formazione che apre una finestra di attenzione su questo può essere una strategia sensata ok grazie c'è una domanda volevo fare una domanda anch'io nell'ambito invece del giornalismo invece a Spucchi allora sì è un ambito che sicuramente si apre anche a partire dalla filosofia non solo a partire dalla filosofia ma certamente la filosofia dà delle chiavi di lettura come prima dicevo quantomeno per il modo in cui noi approcciamo la filosofia qui in questo corso di laurea dà delle chiavi di lettura del contemporaneo e quindi dà modo di avviare la carriera giornalistica o comunque nel mondo della comunicazione avendo un approccio e forse non dico una marcia in più ma una marcia specifica ecco che altri corsi che possono anche essere orientati in modo più specifico al giornalismo però non hanno allora mi è parso di capire dalla spiegazione che è stata fatta che completando la triennale di filosofia comunque si hanno le i precetti diciamo per andare a insegnare storia e filosofia oppure scienza umana e poi dipende dalla scuola in cui si va e la mia domanda era più che altro se fosse possibile aggiungere magari qualche esame per poter avere la possibilità di accedere a altre cattere che sono magari lettere o latino poi dipende in realtà per insegnare in una in un istituto superiore bisogna aver fatto la magistrale e quindi anche tutta la questione degli esami integrativi eventuali eccetera si sposta piuttosto sulla magistrale dopo la triennale si possono senz'altro fare degli esami diciamo extra che danno al curriculum un profilo che eventualmente lo rende compatibile con l'insegnamento di che ne so latino greco eccetera aggiungerne parecchi ma è possibile buonasera la mia domanda si basa sul seguire due percorsi in contemporanea nel mio caso si tratterebbe di un triennio in conservatorio e quindi mi stavo domandando se è possibile seguire anche l'università o se c'è la possibilità di un part time o come magari generalmente viene fatto dagli studenti insomma ecco grazie grazie allora mi viene in mente che c'è un centro di ricerca dentro il nostro dipartimento che non ho citato e che si chiama Orfeo ed è orientato alla filosofia della musica soprattutto alla musica diciamo otto novecentesca fino alla musica contemporanea e quindi anche questo è un filone che è molto presente diciamo tra i colleghi nella ricerca e nella didattica che facciamo e venendo alla domanda più specifica sì è possibile frequentare con un part time guadagnando del tempo per fare dell'altro o lasciando del tempo per fare dell'altro per esempio studiare uno strumento questo per tutti sì sì non solo la filosofia ma certamente anche la filosofia buonasera io avevo una domanda per quanto riguarda le magistrali in seguito alla triennale di filosofia io ad esempio ero già avevo già l'idea appunto di come si parlava prima di arrivare poi all'insegnamento di filosofia e storia quindi qual è poi non so lo sbocco a livello magistrale più naturale dopo la triennale di filosofia lo sbocco appunto è una magistrale che approfondisce un insieme di temi che sono già stati presentati ma in una forma più introduttiva nella triennale e poi c'è questo che la magistrale non è solo l'approfondimento di qualcosa di già incontrato anche per esempio dal punto di vista della storia della filosofia oppure anche dal punto di vista della ripetizione di alcuni insegnamenti penso a etica perché io insegno etica ci sono dei corsi più avanzati più complessi eccetera ma poi ci sono anche degli insegnamenti di natura differente che sono solo nella magistrale e che sono molto più specifici non so c'è un insegnamento sulla questione della dialogicità nella filosofia antica oppure c'è un insegnamento di etica e psicoanalisi ecco questi non ci sono nella nella triennale ci sono nella magistrale ci sono sentori di questi orientamenti possibili già nella triennale però in realtà sono cose che si studiano meglio in modo più dettagliato nella magistrale quindi la magistrale da un lato approfondisce dall'altro apre su dei temi nuovi non so ontologia c'è un un insegnamento e poi un esame che si intitola ontologia che è molto specifico è molto avanzato diciamo così dal punto di vista contenutistico e c'è solo la magistrale la magistrale funziona in questo doppio modo dell'approfondimento ma anche dell'apertura su discipline non incontrate in precedenza buonasera vorrei chiedere per entrare nel mondo del giornalismo editoria marketing insomma bisogna fare poi dei master oppure basta la laurea in filosofia magistrale allora le vie del signore sono infinite dunque non è mai necessario fare qualcosa perché davvero le vie sono sono tante è possibile fare un master spesso è d'aiuto perché i master sono a cavallo tra l'esperienza universitaria e quella professionale prevedono dei tirocini degli stage quindi dei momenti di contatto effettivo di lavoro già effettivo in una certa realtà di destinazione quindi consentono delle occasioni evidentemente non è così indispensabile in realtà un mucchio di gente arriva sia nelle aziende sia nell'editoria sia probabilmente nel mondo del giornalismo per altre vie ecco quindi che non sono così codificate istituzionalizzate come quello del master ci sono altre domande ah sì chiedevo appunto da qui non si vedono altre mani alzate allora grazie ci siamo grazie davvero a chi ha parlato prima e ha dovuto andarsi grazie a voi ma soprattutto grazie a voi che siete rimasti fino alla fine con desiderosi di approfondire quello che per voi forse insomma domani sarà una scelta importante vi ringraziamo molto e buon tutto buona maturità e chissà speriamo di rivederci qui buona serata grazie a tutti